allora volevo soltanto salutarvi sono per forza molto lieta di vedervi tutti in presenza come dicevo prima penso che finalmente ripartiamo l'abbiamo sentito tantissimo dappertutto però è vero e almeno per noi una diciamo che la vita è tornata in accademia e ci voleva non so come da voi ma noi veramente è una cosa che fa del bene anzi ci sono tante cose affittiamo anche i spazi perché abbiamo bisogno di un po soldi quindi perciò purtroppo non potete stare giù ma abbiamo organizzato un bel caffè di accanto spero che le cose andranno bene infatti sono molto felice di vedervi non soltanto perché come dicevo è un modo di ripartire ma anche perché ho detto spesso penso che sarà anche nel futuro è sempre più importante di dimostrare che lavoriamo insieme lo sapete e penso che il pubblico non lo sa abbastanza roma è la città che già probabilmente più istituti scientifici e accademia quel suo territorio al mondo e quindi il fatto di sviluppare delle cataloghi insieme è un modo per far vedere ci sono non soltanto tante accademie ma che lavoriamo anche insieme e anche questo per il futuro anche dal punto di vista ecologico far capire ai nostri residenti che invece di girare il mondo possono ritrovarsi qua e possono direi girare il mondo a roma penso che anche quella una cosa che dobbiamo far sapere di più e quindi una volta di più grazie di essere venuti grazie di sviluppare queste cose insieme spero anche che nel futuro potremo sviluppare di più ancora insieme abbiamo già il catalogo delle nostre biblioteche magari ci sono altre collaborazioni possibili attraverso l'unione ma anche attraverso direi tutti voi in ogni caso siamo molto aperti a progetti e adesso lascio la parola a barbara che ne ha tanti progetti come sappiamo tutti buona giornata grazie allora buongiorno anche da parte nostra un ringraziamento per la vostra adesione in presenza e in remoto come abbiamo indicato brevemente nel flyer l'obiettivo di questo incontro è quello di fornire una visione più chiara sul tema dei linked open data e su wikidata questo attraverso una parte teorica a cura di stefano bargioni seguita poi da una parte più tecnica e pratica a cura di camillo pellizzari stefano bargioni è vice direttore della biblioteca della pontificia università della santa croce è un wikimediano dal 2019 ecco fondatore del coa gruppo italiano e del gruppo wikidata per musei archivi e biblioteche insieme a carlo bianchini e a camillo pellizzari ha scritto il recente articolo behind viaf dove viene confrontato il viaf con wikidata per quanto riguarda il controllo di autorità dei personal names camillo carlo pellizzari di san girolamo ha conseguito la laurea triennale in lettere presso l'università di pisa nel 2020 attualmente studia filologia e storia dell'antichità presso l'università di pisa ed è allievo del corso ordinario della scuola normale superiore è un wikimediano dal 2012 ed è attualmente tra gli amministratori di wikidata e wikipedia in italiano ecco fondatore del gruppo wikidata per musei archivi e biblioteche patrocinato dal dipartimento di musicologia e beni culturali dell'università di pavia in sala e anche remotamente ci sono gli esponenti di importanti biblioteche romane e non solo molte delle quali hanno già affrontato le problematiche di cataloghi condivisi e quindi potenzialmente interessati ad approfondire il tema dei linked open data come mb soft società che da anni lavora nell'ambito delle biblioteche degli istituti culturali curando una serie di cataloghi sia singoli che condivisi abbiamo ritenuto importante impegnarci per un ulteriore approfondimento della conoscenza sul tema e fare da collante per creare anche un'occasione di scambio e di esperienze ed esigenze ultimo ma non meno importante ringraziamo l'accademia belgica e la direttrice sabine von sprang per aver messo a disposizione la location le infrastrutture ed i servizi che ci hanno consentito di organizzare questo evento grazie e passo la parola stefano baggioni grazie grazie barbara anch'io adesso impegno con un po di clic a mettere posizione la la presentazione se riesco anche a avviarla correttamente eccoci qua allora eh faccio anch'io la meno della mascherina così vedete che volto ho e ringrazio eh anch'io la direttrice dell'accademia belgica ringrazio barbara per tutta l'organizzazione devo cercare di non togliermi dal microfono se no cambia molto eh perché veramente barbara è stata quella che ha ha promosso diciamo almeno nella pratica e tutto questo eh abbiamo insistito molto di essere di essere in presenza mh anche perché inizialmente non era facile sapere se avevamo una possibilità di fare la la presentazione anche via zoom però perché abbiamo la sensazione chiara di quello come diceva la direttrice prima eh della della necessità di di lavorare insieme e vedremo che questo eh è uno dei fattori chiave dell'ambiente della eh liquido pendeta in ambito beni culturali devo ah ok allora come lo faccio questo ecco benissimo allora abbiamo ripristinato tutto scusate pazienza ci vuole pazienza a volte anche in questi casi allora oltre i ragionamenti scusate i ringraziamenti passo eh ai ai fatti diciamo eh allora il gruppo è stato già è stato già è stato già presentato da da Barbara eh è un quindi quello che può servire a sapere sono i nomi elencati lì che non sono solo quelli di Camillo mio di Carlo Bianchini e in più sapere che il nostro campo di lavoro è certamente wikidata molto è legato al controllo di di autorità e all'identity management e abbiamo ci siamo fatti le ossa aggiungendo tantissimi eh elementi a wikidata tantissimi legami tra biblioteche all'interno di wikidata e poi lo vedremo forse anche un pochino più in concreto questo grande punto di snodo che è wikidata per quello che ci interessa adesso allora giusto per non fare eh chiasso diciamo abbiamo messo insieme urb star nel senso di di tutte le biblioteche romane eh che hanno qualche anche nel loro nome una radice comune e non è non è da poco no questo fatto eh siamo biblioteche stellari siamo una galassia insomma l'abbia l'ha detto la direttrice eh possiamo lavorare insieme però eh abbiamo bisogno di motivi per lavorare insieme in un certo senso no? E questo del controllo d'autorità è probabilmente un una questione quasi naturale che viene fuori in conseguenza di quello che l'avanzare delle tecniche ci obbliga senza eh diciamo essere ehm un un obbligo un dovere diciamo dettato da qualcuno ma che ci ci spinge a eh mettere in comune no? Ehm e quindi finiremmo per avere la necessità di sentirci di capirci di sapere il lavoro reciproco eh intorno a questo a questo nuovo modo di eh diciamo di affrontare la catalogazione. Per capirci questo è il titolo della mia parte che è nato così. Quando stavamo pensando appunto a come dividere il lavoro con Barbara e il flyer abbiamo detto ma per capirci che cosa dobbiamo scriverci lì? Io ho detto è per capirci dobbiamo capirci e quindi io devo spiegare che cosa si tratta e per lavorarci nella parte di Camillo che dovrà appunto spiegarci alcune cose diciamo un pochino più pratiche no? E per capirci partiamo un po' dalla storia eh almeno della mia biblioteca è successo così. Abbiamo scoperto che dentro Wikidata c'era una proprietà dei nomi degli regolatori della Santa Croce e siamo rimasti un po' lì e poi sono andato un pochino più in là e ho visto che c'era già ancora prima quella del Angelicum. Allora ho detto ma guarda allora tramite Wikidata i due set di dati si parlano si confrontano poca roba c'è ancora poca roba aggiungiamo quelli che mancano dei miei almeno quelli che posso aggiungere come faccio aggiungerli? Ho imparato alcune cose e intanto i colleghi cominciavano a annusare diciamo che Wikidata aveva la caratteristica fondamentale, la differenza fondamentale rispetto al VIAF che già stavamo coltivando diciamo come la differenza fondamentale che su Wikidata ci si poteva scrivere, potevamo correggere, aggiungere e correggere e quello per noi è stato veramente, ho visto illuminarsi alcuni occhi Luigi eccetera che diceva questo è un'altra cosa, qui dobbiamo pensare bene. Poi abbiamo conosciuto Camillo grazie al fatto che abbiamo cominciato a discutere, già se ne discuteva a suo tempo, i VIAF multipli, ma che facciamo con i VIAF ma se vogliamo registrare i VIAF nelle nostre regole d'autorità e quelli sono più di uno cosa facciamo? Poi su Wikidata quando sono più di uno, che serve che siano più di uno? Buttiamone via quelli che sono di minore interesse? No, fanno a Camillo, via rete, senza conoscerle neanche che avesse cominciato a lavorare in quell'ambiente già dall'età di 14 anni. Non li buttare perché sempre hanno un loro significato, non è colpa nostra se il VIAF ce ne mette più di uno, cioè se la clusterizzazione del VIAF non è sufficientemente, non è definitiva diciamo e in fondo non lo sarà mai perché ci possono essere delle forme che uno non si rende conto che fanno parte di un cluster e quindi restano sganciate dal cluster dove devono andare. Stesso discorso che può valere anche per noi, quando non sappiamo che quel nome corrisponde a quello che, come lo stanno chiamando altrove. Poi abbiamo analizzato, vabbè sto saltando molto perché l'esperienza per arrivare a scrivere l'articolo che ha citato Barbara è stata tanta e abbiamo conosciuto, conoscevo già ma insomma abbiamo coinvolto Carlo Bianchini e quindi è venuto fuori lo studio del confronto della VIAF e Wikidata e ci siamo resi conto di tante cose. Chi volesse leggere quell'articolo lì ce lo trova con quelle due parole, Beyond VIAF è un nome dei nostri, ma devo dire è un po' pesante. Qualche cosa lo accenniamo però fa capire che era un lavoro che bisognava fare a livello diciamo generale e quindi averlo fatto aiuta molto a capire il ruolo che Wikidata ha, almeno per il controllo l'autorità per i personal names. Noi abbiamo, come ho detto, lavorato molto, stiamo lavorando molto come biblioteca mia in questo senso, l'Angelicum anche e non sono i soli, in tutto il nostro giro romano sicuramente, l'Angelicum ha fatto un lavoro splendido tramite automatico, grazie a Janusz Casmarik, che gli sta facendo un lavoro veramente da consulente di altissimo livello, molto bravo. A monte di tutto però c'è il corso di Urbe 2014, cioè Urbe su pressione di sicuro di Mauro Guerrini, che è molto amico di tante persone in Urbe, ci ha chiesto dovete fare, dovete imparare RDA, dovete cominciare a pensare RDA. E allora c'è stato un corso fatto, la maggior parte da Tiziana Possemato, nel 2014 addirittura, e il frutto del corso è quella vignetta lì, cioè no, non è vero, c'è stati altri frutti, ben altri frutti, ma è successo e che mi è venuto in mente disegnare quella cosa lì, e quando l'ha vista Mauro si è messo a ridere e ovviamente ha detto, ma questa ha del contenuto. Io ce l'ho disegnata io, ma io non è che ho disegnato questa cosa pensandoci troppo, mi è venuta proprio di gente. Allora però analizziamo questa vignetta che ha un prima e un dopo, il primo è la parte di sopra, grazie Camillo cambia la slide, e il dopo è la seconda parte, ci sarebbe anche un durante, ma insomma, allora, Snoopy dice, basta catalogare, si è stufato di mettere schede una sull'altra praticamente in casa sua. Il durante sarebbe che queste schede sono quelle che stanno nell'OPAC, ma sostanzialmente in questo momento noi stiamo facendo più o meno il lavoro, anche se elettronico, chiamiamolo così, e di pubblicazione in rete, di quello che si faceva con le schedine dei classificatori, cioè non c'è, non era altro che descrittivo. Invece adesso non vuole più catalogare Snoopy, ma vuole catalogare. E quindi le sue schede sono schede che vanno in cloud, svolazzano, ma sono collegate tra loro tramite dei punti da scheda a scheda. Come si vede c'è un tentativo di disegnarlo, no? Questo fatto, cioè non c'è, non è un legame sempre nello stesso punto, che so io, nell'angoletta sinistra, no? Ma dei punti diversi di scheda a scheda. E le schede appunto se ne vanno in giro, con una stampante speciale, il brevetto IBM di qualche tipo. Che cosa manca alla logica della vignetta, a parte il discorso OPAC che dicevamo prima, no? Non è mostrata la possibilità che i punti di una scheda siano collegati a punti di schede di altri cataloghi. I legami interni di un catalogo sono fondamentali, i più semplici sono quelli che facciamo, se abbiamo il record d'autorità tra l'autore e dove è citato, dove è autore, dove ha la responsabilità nel record biografico, ma possiamo anche costruire tanti altri legami all'interno di un catalogo, per esempio nel Marche 21, 773, 774 sono legami tra record biografici, no? E quanti potrei ancora citarne, è inutile stare a, diciamo, a farlo qui, non è quello il punto, ma la differenza fondamentale è che il web dei dati è questo, collegare i nostri punti di una scheda con i punti di altre schede di altri. Cosa sono i punti? I punti sono le entità, le componenti principali, le informazioni fondamentali, gli autori, autori titolo, autori titolo lingua che sono le espressioni, no? I titoli uniformi, soggetti. Questi sono i punti che RDA chiama punti di accesso, puoi anche cambiare, grazie. Sono i canali che l'utente predilige per arrivare all'informazione. In fondo quasi sempre si fa uso più di quelli che di altro, cosa sto a cercare per, prima di tutto, per tipologia del materiale, per esempio, è difficile che succeda, no? E' quello che facciamo anche noi con le ricerche tipo Google, cerchiamo di arrivare attraverso quello, no? Più che, a volte sì, partiamo proprio da zero, però in mente abbiamo un pochino quello, una parola dell'autore, una parola del titolo, no? Già quello, con quello facciamo capire che, cioè stiamo capendo che abbiamo quella logica di partenza. E tutti gli altri dati sono ben poco rilevanti perché sono dati finali, di utilizzo finale, di affinamento, di scelta. Quel modello FRBR, eccetera, lo spiega questo passaggio, no? E questa logica che si riflette nell'uso, il tipo di uso che fa l'utente, eccetera. Però, abbi, scusa, torno un attimo indietro perché quella immensa, perlomeno grande A che ho voluto mettere qui, è perché sono più che convinto che la A di RDA, Resource Description and Access, sia la lettera più importante di tutte, no? E possiamo fare una bella descrizione delle risorse, possiamo essere precisi, possiamo stare attenti a tutte le abbreviazioni che RDA ci dice di evitare quante altre indicazioni queste linee guida abbiano, però il punto chiave è l'A di accesso. A di accesso che non solo è il percorso che predilige l'utente, ma anche il percorso che finiranno per prediligere le macchine che fanno i salti da uno all'altro grazie ai legami che costruiamo noi con LinkedIn Data, che appunto passano attraverso i punti di accesso. Catalogare allora diventa catalogare rispetto al mondo, cioè se io collego me o una mia entità con quella, un'entità che è fuori da me, diciamo, no? Un altro ambiente, chiaramente sto dando un'indicazione ai miei utenti che quest'autore è lo stesso chiamato probabilmente nello stesso modo, ma anche in modo diverso, in altrove, no? E in più succede il contrario, o potenzialmente può succedere il contrario. Quindi, come si diceva un tempo, l'OPAC ha aperto le mura della biblioteca, però nel senso che l'utenza arrivava da noi, invece con le web dei dati succede il contrario, i nostri dati escono. È vero che entrano quelli degli altri, entra molto di più, perché noi siamo uno, gli altri sono mille, no? Uno, nessuno, centomila, no? E quindi i dati attraversano le nostre mura. Mentre l'utenza entrava, adesso sono i dati che possano attraversare le mura. Il web classico collegava pagina a pagina, lo collega ancora adesso, destinate all'occhio umano, invece il web dei dati è un collegamento di dati tra di loro, in cui diciamo che tipo di dati sono, non possiamo dire semplicemente stringa, nome, cognome, Camillo, Carlo, Penziani, San Giorno, un computer, cosa vuoi che capisca di questo immenso nome? Non capisce che è una persona, non capisce che può essere un autore, non capisce che appunto bisogna associare il concetto. e in più, a quel punto, permettiamo alle macchine di collegarli avendo una sintansia, avendo anche a noi catalogatori, non dovrebbe importare, dovrebbe essere sufficientemente nascosta e non dovremmo ragionare in triple, non dovremmo ragionare in RDF o quello che sia, perché il software dovrebbe nasconderci questo. Siamo ancora un po' lontani, come dicevo prima con Marta, formalmente, da un software che sia veramente già pronto per aiutarci a lavorare e applicare i ragionamenti che possiamo fare in questa, in quest'ottica, quindi ci vorrà un po' di tempo, nel frattempo ci costa un po' di lavoro in più. Ma chi è il mondo dove svolazzano le cose? Chi è il cloud per noi? Il cloud siamo i presenti qua e i nostri colleghi in remoto. Siamo prima di tutto, cioè il nostro cloud prima di tutto sono gli ambienti dove possiamo avere un maggiore interesse che i nostri dati vengano condivisi. Sono i nostri progetti istituzionali, nel senso che noi possiamo avere per esempio una biblioteca digitale di qualche tipo e il catalogo della biblioteca, un archivio e in questo modo il link data ci consente di fare un legame interno, però pur sempre un legame che ci evita di dover mettere insieme i dati fisicamente e consente comunque la condivisione e non dover ripetere per esempio la descrizione, certe descrizioni anche se sono contenute in ambiti molto diversi tra di loro. Questa è un'esperienza che stanno cercando di fare, il prounione, se non sbaglio. Il cloud sono quegli ambienti consortili a cui facciamo parte, sono gli ambiti superiori a noi, per esempio regionali, nazionali, con cui potremmo anche non avere strettamente nessun rapporto di cooperazione, come il via Flisni e Wikidata, perché almeno da una parte mettiamo un identificatore che sta dall'altra e quindi si crea una cooperazione, che non è una cooperazione, ma un legame tra ambienti diversi. Suggerisco sempre di avere un'attenzione particolare per ambienti superiori, interni, non importa, non lo giustisco io, ma superiori sì, perché se sono superiori poi c'è la ricaduta verso tutti quelli che fanno altrettanto. Sul discorso delle fonti, noi siamo abituati, almeno i miei colleghi, gli ho detto datemi le vostre fonti mitiche, il Volpi, il PMA, Acolyte, no? E poi tutti i dizionari biografici, eccetera. Internet è diventato una delle nostre fonti, ma con il web dei dati, le biblioteche simili alla mia diventano fonti. Io divento fonte per loro, probabilmente, e anche per chiunque mi venga a cercare o anche per chiunque trovi descritto da me quell'autore che io conosco molto bene. E quindi, soprattutto sugli autori che conosco molto bene, diventa una responsabilità a vedere, catalogare rispetto al mondo, è anche questo. Se io sconosco una data che può situare nel tempo un autore, perché è un autore del mio ambito, è bene che la metta, perché probabilmente è la più autorevole e probabilmente non la trovi ancora nel VIAF, neanche. Grazie. Quasi tutti noi abbiamo record d'autorità, no? Noi siamo anche, diciamo, accomunati da COA, almeno una buona parte, e questo ha facilitato molto il lavoro che abbiamo fatto per renderci conto di questa forte coesione che ha rilevato la direttrice prima, salutandoci e augurandoci buon lavoro, no? Forte coesione, forte analogia che c'è in ambito romano. Gli archeologi sono probabilmente gli autori più in comune tra tutti. Veramente sorprendente, questo l'ha dimostrato Wikidata, no? Però non solo, c'è tutto l'ambito storico, artistico, eccetera, no? Abbiamo tantissimo in comune e anche piano piano si verifica questo, si tocca con mano, questo con l'ambiente, per esempio, dell'archeologia di Tarasanta, dell'Egitto, eccetera. Abbiamo cominciato un contatto molto simpatico con l'ambiente della biblioteca della Scuola di Archeologia Italiana d'Atene, e anche lì c'è moltissimo in comune. Abbiamo la Vaticana, con cui storicamente non dico niente a tutti quanti, no? Abbiamo l'esperienza Bibionova, per esempio, che registra il record d'autorità in software diversi, e via dicendo. Sappiamo che il VIAF è promosso a biblioteche nazionali, è un sistema dove, e altri grandi servizi, dove vengono raccolti e automaticamente clusterizzati, cioè raggruppate, quelle forme di tipo molto vario, terribilmente diverse, in certi casi con scritture, che per noi sono lontanissime, no? I nomi di autori famosi e anche non famosi. E tende a essere destinata soprattutto ai suoi membri, alle fonti del VIAF, più che ad altre biblioteche o progetti di minore portata, no? Non in ambito nazionale. Uno può chiedere di far parte del VIAF, ma il caos del VIAF in genere, diciamo, si orienta per un grande apporto, no? Quindi non è facile che accettino e membri, diciamo, diversi dalla tipologia attuale, anche se poi si cercano per loro iniziativa fonti che ritengono sufficientemente di livello. Wikidata ha questa storia all'interno del VIAF e non è l'unica, però che non ha, diciamo, queste fonti che il VIAF sceglie sono secondari, non hanno, diciamo così, un ruolo attivo, non hanno diritto di voto, per dire, no? E tutti gli altri progetti che non possono fare parte del VIAF, come anche il Parsifal, che la rete urbe sta cercando di porre presto in produzione, non potrebbe contribuire al VIAF, ma può farlo con Wikidata. Chiunque di noi può dare un contributo a Wikidata e adesso vedremo anche come. Wikidata la presenterà sicuramente meglio di me, Camillo, esiste al 2012, io la chiamo più che sorella, come dicono noi, fra i progetti sorelle in tutto il giro Wikimedia, per me è quasi più cugina di Wikipedia che sorella, no? Non va quindi confusa con Wikipedia in nessun aspetto, perché è un database di dati strutturati, e Wikipedia invece è una enciclopedia che sta cercando di usare la forza dei dati strutturati che stanno in Wikidata. E soprattutto è un database di conoscenza libero, collaborativo, come abbiamo detto, dove possiamo mettere le mani, e che è leggibile dalle macchine, questo sì che fa la differenza, vedremo adesso un caso molto bello, e qui ci ha ripetuto, inutile rileggerlo l'articolo. Perché ci interessa molto Wikidata? Contiene veramente molti nomi e ben descritti. Il VIAF, come avevo detto, con nomi antichi, con nomi mitologici, con nomi di personaggi fittizi, che non hanno, siccome lavora moltissimo con il confronto tra le opere, tra i titoli, e con l'ISBN anche, non ce la fa con chi non ha scritto niente, o con chi di cui abbiamo appunto un nome antico, non c'è una pubblicazione se non come soggetto. In ambito mio, dentro Wikidata posso usare l'identificatore liberamente, poi è vero che posso farlo anche del VIAF, però non riesco a usare il VIAF con la potenza con cui me lo permette il Wikidata, per via delle API, cioè dei sistemi automatici di accesso, che ovviamente vanno messi in mano, diciamo, a un eventuale fornitore di servizi, come può essere Barbara, nell'ambito del mio OPAC. E quindi posso, con quelle API, posso leggere i dati al volo, ne posso fare un uso libero, in altri casi, per esempio, una cattura così da SBN non è detto che sia libera, che si possa utilizzare, bisogna sempre almeno citare la fonte, quindi può essere un po' più complicato. E dentro Wikidata posso modificarli, per esempio, noto una data errata, un nome sbagliato, perché anche solo la digitazione può dare un errore, posso modificarlo e correggerlo. Posso aggiungere dei dati, posso creare un autore che io conosco bene, che lì non è presente, che magari c'è nel VF, ma lo creo dentro Wikidata. Dentro Wikidata, appunto, non c'è bisogno di dare suggerimenti, li faccio. Invece, cercare di mandare un suggerimento al VF è una vera impresa, è praticamente inutile, anche perché ho l'impressione che loro non passino, il VF sì, ma il VF non passi attraverso una modifica manuale, cioè anche se volesse, e anche se la apportasse, probabilmente tutti i meccanismi automatici con cui macina i dati, finiscono per smontare l'eventuale correzione che abbiamo suggerito o che si sono ritrovati a dover fare. E quindi a volte si vedono addirittura dei cluster disgregarsi. E poi dice, ma scusa, ma era aggregato? Tempo fa lo dimostra anche Wikidata, per esempio, perché adesso invece sono n identificatori in più esplosi di quel cluster. Perché via fa fatto questo? Probabilmente per via di un eccesso di automatismo, invece la componente di lavoro manuale che si può mettere in Wikidata da parte di chiunque, arricchisce ed è stabile, è robusta, e ne fa quindi un punto di riferimento veramente affidabile. Come dicevo, Camilo ci aiuterà a capire meglio come si lavora su Wikidata. a noi qui interessa sapere che possiamo aggiungere il nostro identificatore di un record d'autorità. Anzi, qualcuno, lui, io, potrebbe averlo già fatto per quasi tutti quelli che sono qua. Potremmo fare un controllo, non abbiamo fatto l'elenchino, giusto per non essere esagerati, però il risultato complessivo è stato veramente interessantissimo per quello che abbiamo scoperto, per esempio, gli archeologi come punti molto in comune tra di noi, certi ambienti, di studio, di lavoro, e quindi va portato avanti. Questo controllo d'autorità in Wikidata è fatto, appunto, come dicevo, da proprietà che sono state assegnate assegnate perché le proprietà in Wikidata si possono chiedere, si aggiungono, concettualmente, concettualmente no, non è proprio così, ma aggiungere un campo a un grande database perché non ce li può avere tutti già pensati prima. si fa una richiesta di aggiunta di una proprietà dicendo che conserverà il record d'autorità, i numeri di autorità di un certo catalogo o di qualsiasi altra informazione interessante che debba essere, possa essere riportata. e quindi abbiamo in questo momento per esempio che la proprietà dei numeri di identificatori in URBS è P8750, non diamo i numeri preceduti a P o da Q, è inutile perché uno non se li memorizza, ma per saperlo questa è stata una delle operazioni più semplici e la cosa meno facile ovviamente è riempirle. occorre ovviamente che ogni ambiente, ogni proprietà sia dotata del corrispondente, la corrispondente identificatore appunto, ma anche che quell'identificatore costruisca un link permanente, cioè che quell'indirizzo che mostra quell'entità, quell'autore nel mio catalogo sia sempre lui nel tempo. Questo è un impegno che può avere il web server o l'amministratore del web server una volta che decidessimo in questo senso, ma comunque ci sono anche metodi per cercare di superare eventuali cambi di indirizzo, ma quello che deve rimanere una volta che è cominciato un processo di questo tipo è che il numero non si deve perdere più, cioè se l'autore Camillo Pellizzari è identificato al numero uno e quell'uno dovrà andare nel mio catalogo dovrà sempre andare dietro al nome a quell'autore lì, al nome di Camillo, perché potrebbero averlo utilizzato in giro per la rete altri e quindi è un identificatore che deve essere stabile, permanente e potendo anche il link che deve essere permanente. Si può rendere per esempio indipendente dal proprio OPAC costruendo un indirizzo che poi il web server sa nascondere del tipo semplice mio catalogo punto com barra autore barra uno due tre in questo modo poi sotto ovviamente ci sarà il salto verso COA per esempio che è un pochino più complesso e quello diventa veramente un bellissimo link permanente addirittura può essere considerato un URI qui c'è un esempio di un filologo francese che il pontificio dell'archeologia cristiana indica sotto il 10 438 e come vedete questo link permanente è un po' complesso l'archeologia cristiana non ha quella bellezza che dicevo prima dell'URI ben compilato eccetera non è necessario però è fondamentale sapere che se io clicco questo link ottengo effettivamente sì grazie dovrebbe aprirsi un'altra scheda presumo non so se mi sta facendo addirittura un servizio e se puoi ingrandirlo con control più no non lo ingrandire lo facciamo in sala si può fare forse sì ecco si vedono intanto nel 001 il 10408 quello è il punto di partenza e la radice di tutto poi abbiamo alcuni altri dati fondamentalmente il 100A e il 100D dove abbiamo delle date che sono già un fattore importante per la descrizione di questa individuazione di quest'autore nome e cognome in genere non viene considerato sufficientemente forte come fattore di individuazione sappiamo bene quanti problemi che vengano creati dall'omonimia dall'altra parte invece c'è l'indirizzo Wikidata della stessa entità e quindi legare questo Pierre Bojanse in Wikidata e il catalogo del PIAC porta questa già questo primo passo dove in Wikidata ci sono altre informazioni oltre quelle che il PIAC riporta delle date e più persone possono arricchire questo ma soprattutto nella parte in basso della scheda chiamiamola scheda si chiama elemento di Wikidata si trovano gli identificatori di tutti quelli che sono stati per ora individuati trovati raccolti in Wikidata eccone diversi eccoli qua dal via fallisni che dentro il PIAC non c'erano Vatican Library non c'è cantiche dell'ambiente catalano biblioteca nazionale spagnola eccetera sicuramente francese dicendo allora dice ma guarda questo povero record senza offesa per i colleghi del PIAC ha pochissimo ma con questo ha fatto un salto potenziale di qualità che non è neanche richiesto che si corrisponda a una copiatura a portare dentro il record d'autorità tutti i dati in più che si trovano in Wikidata soprattutto ha ottenuto il ponte verso altre fonti di informazione fino alla possibilità addirittura potenziale di offrire l'opera omnia di questo Pierre Boyanz se riesce a tornare chiaramente a Wikidata si può tornare indietro verso il ma dal PIAC ancora non si può fare il salto verso l'elemento Wikidata perché perché dentro il record del PIAC non è riportato Q non mi ricordo già più il numero tanto non è inutile ricordarselo non ci è riportato l'indirizzo o almeno l'identificatore di Wikidata e neanche VIAF ci è riportato non vuol dire questo è appunto il progresso che potrebbe fare l'Istituto dell'archeologia cristiana nell'ambito del LinkedIn quindi Wikidata è lo snodo del web dei dati più di Wikidata in questo momento non ci viene offerto nulla che io sappia con tutti i pro abbondantissimi e i contro perché è un ambiente dove i contro stanno nel fatto che è praticamente un ambiente completamente aperto dove tutti possono scrivere e quindi non sto pensando ai vandalismi ma al fatto che effettivamente ci può essere quasi troppa roba rispetto a quella che un ambiente chiamiamolo definito non direi chiuso ma definito come il nostro si aspetterebbe infatti la descrizione per esempio di opere espressioni è molto meno facile rispetto alla descrizione invece di autori e quindi in quel senso utilizzare Wikidata per opere e via dicendo è meno in questo momento meno robusto di farlo invece per entità autori corporate names già comincia a vedersi qualcosa di meglio eccetera interessante perlomeno per quanto riguarda occupazioni soggetti o perlomeno più che soggetti keywords perlomeno quello e quindi con questa mappetta della mappa della metro di Roma di Milano passiamo quindi Wikidata è un ponte lo scopo di Wikidata non è vedere l'elemento Wikidata come abbiamo fatto adesso non dobbiamo fornire all'utenza il salto sulla pagina Wikidata perché ci si perde o addirittura fornire meravigliosi grafici che sono poi quelli che Camillo è riuscito a comporre che abbiamo usato come diciamo così richiamo colorato nel flyer di oggi il punto è che cosa si può fare tramite Wikidata una volta che sono entrati lì l'identificatore mio e quello di diversi altri sotto lo stesso sotto la stessa entità con il punto di partenza fondamentale del nostro identificatore un programma eventualmente anche di un fornitore di software che abbiamo può fare questa informazione estrarre informazione che non abbiamo aggiungerla al nostro opac aggiungerla al catalogo anche al catalogo nel senso di catalogo della catalogazione cioè registrare definitivamente per esempio quella data così io ce l'ho per sempre arrivare ad altre informazioni come sono le pagine Wikipedia come sono dizionari biografici come sono voci di enciclopedie e via dicendo qui c'è riporto l'esempio del COBIS che è il coordinamento biblioteche speciali e specialistiche di Torino è fatto di 12 biblioteche che hanno un progetto di link ed open data veramente veramente molto bello e questo autore questo famoso astronomo italiano torinese e Jean-Louis Lagrange è descritto da questo elemento da questa pagina del COBIS in questo modo voi direste ma quanti dati che hanno di questo autore nel COBIS in realtà con la slide successiva loro stessi cliccando su quella piccola i lassù ci spiegano che cos'è quel 22 nel tondino giallo e ogni bordino giallo ci dice che quella informazione non è presso il loro catalogo ma proviene da fonti esterne che sono Wikidata VIAF e quant'altro potrebbe per esempio essere presa dal primo paragrafo del dizionario biografico degli italiani perfetto sta a me decidere quali pezzi mettere eventualmente come scelta di progetto se facessi un lavoro di questo tipo per esempio un lavoro di questo tipo una volta che ci sono tanti identificatori sufficienti identificatori dentro il giro urbis può essere fatto dentro urbis senza fatica senza dover pensare Barbara sta capendo no c'è una certa fatica però chiaramente quando gli identificatori sono in comune stiamo parlando dello stesso autore e quell'autore è in Wikidata ecco fatto che poi si può aggiungere un servizio in più dentro urbis per fare un esempio e quindi avvicinare urbis a questo cobis il prossimo esempio è auto in sensazione c'è l'autority box che è descritto in un articolo che ho scritto tempo fa è un'idea che è venuta collettivamente dentro la mia biblioteca quando a un certo punto io ho detto ma è possibile che i record bibliografici siano sempre così distanti dai record di autorità perché l'utenza non ce li ha mai in mano nessuno guardando i contatori di uso ti viene male ricerca semplice altissima ricerca avanzata pochissima ricerca per scorrimento ancora meno ricerca per record di autorità praticamente solo noi dello staff c'è una cosa ma perché l'utenza non va mai a record di autorità perché ci sono i link schiacci lì e apri un record di autorità perché non ci mando mai e già non gliele offriamo veramente qualcuno io ho detto dove li mettiamo nell'opac in modo tale che li possono vedere e io ho preso una pista sbagliata poi a un certo punto uno marito di una qui presente ha detto bisogna metterli dentro il record dove si descrive la singola opera il singolo documento io ho detto certo bisogna descrivere bisogna dare la possibilità di far vedere ogni responsabilità chi c'è dietro ogni responsabilità a ogni cento e settecento ci sarà dietro qualcuno e allora è nato il concetto di questo box dove che è la parte a destra dell'immagine dove i due perlomeno i due di questa scheda Max Jammer e Albert Einstein sono descritti grazie non solo al record di autorità che possiamo avere presso il nostro catalogo ma anche grazie al link tipo Wikidata viene aggiunta dell'informazione che non è presente nel nostro catalogo per esempio a volte ci sono negli 8, 5, 6 in autorità i link a Wikipedia ma quasi mai questi sono aggiunti prendendoli e la fotografia non ti dico niente prendendoli al volo e quindi l'autority box si forma in parte con i dati che ho in parte con i dati che non ho come il COBIS prima che addirittura aveva una percentuale molto forte almeno per quel tipo di autore per quell'autore lì il percentuale molto forte dei dati che viene dall'esterno quindi cerco di concludere perché se no non finiamo più già arriviamo in ritardo 11,5 non è mia il motivo vero delle richieste di incontrarci oggi persone è che abbiamo bisogno di aiutarci a individuare una volta che cominciamo a fare il lavoro di questo tipo abbiamo bisogno di superare in certi casi ordinariamente no straordinariamente sì individuazioni difficili e quindi dobbiamo poter avere a mio parere contatti informali semplici che saranno saltuari per interesse reciproco sapendo anche che tutto quello che già facciamo di mettere come dicevo prima elementi individuatori forti sufficienti dalle date all'Iviaf al numero Wikidata dentro il nostro autore aiuta già automaticamente questa cooperazione no? quando invece l'individuazione risulta difficile perché non si sa la data per esempio la data di nascita della persona non si sa da nessuna parte se riesco a trovarla non è che per caso tu che sei di quell'ambito riesci a scovare la data di questa persona ci si mette lì e dopo un po' va a galla e arriverà fino su arriverà fino a Wikidata e Wikidata verrà il VIAF pesca la Wikidata quindi la catalogazione non avviene più soltanto nel mio ufficio in un certo senso può avvenire anche grazie a uffici di catalogazione che stanno altrove che sono amici miei diciamo perlomeno colleghi pensiamo alla prossima che è quella che dice che l'Inchidata quindi aggregano è colpa dell'Inchidata aggregare ma per forza è una rete mondiale in un certo senso è una rete che se si fa una rete aggrega e quindi si spiega perché esistano l'Inchidata for libraries user group l'Inchidata for production il gruppo GVMAB l'ambiente Parsifal che è un ambiente di urbe urbe già a questa collaborazione aggrega ma Parsifal aggregherà ancora di più e poi UrbStars quello che in fondo stiamo facendo adesso individuare questo è un esempio bellissimo secondo me cosa non è capace di fare Wikidata in questo momento per separare bene Silvia Pellegrini da Silvia Pellegrini ognuno e questi li ha sistemati lui facendo anche un po' la fatica di andare a trovare di capire che uno era patologa che l'altro era astrofisica che l'altro eccetera attenzione ai due casi centrali un clic per favore non basta l'anno per distinguere la patologa dalla teologa e questo ci dice che a volte appunto bisogna sprecarsi un po' di più ecco o che Wikidata trovi la soluzione o che te la costruisci in tutto di Wikidata e a quel punto sei riuscito appunto a evitare le famose conflazioni cioè i pasticci che sorgono nella biblioteca nazionale spagnola abbiamo aiutato a separare padre figlio nonno padre e figlio che erano finiti tutte e tre insieme via del cognome dei cognomi i pasticciali il secondo cognome era un disastro anche perché quello in mezzo aveva il doppio cognome uguale disastro bene quindi a questo punto siamo in realtà dei metadattatori catalegatori in realtà sarebbe da dire metadattatori abbiamo la fatica di produrre link e data con i software attuali come diceva Marta perché non ci aiutano il mark ha questo limite noi descriviamo se va bene il link nel mark ma non riusciamo a farli diventare operativi perché il software non segue quella è difficilissimo per un informatico tirare fuori i legami dal mark perché gli indici dove stanno non avrebbe la velocità della risposta del sistema si inventerebbe una cosa così peculiare che è meglio lasciare perdere quando in giro per il mondo le triple rdf hanno già spopolato bibframe cerca di fare questo avere i dati in formato nativo link e data diciamo così lavorare direttamente con la logica del link e data ma il nostro software non è ancora bibframe e ce ne vorrà quindi sappiamo in questo momento che wikidata ci aiuta a imparare questa logica e dovremo fare un po' di fatica ancora curando il record d'autorità se vogliamo ne sono obbligato ma ci capiamo è l'obbligo è la spinta diciamo della tecnologia e fare questa fatica in più perché così in questo modo avremo probabilmente la possibilità anche non già di essere link e data ma di avere anche la possibilità di portare i nostri cataloghi in ambito rdf frame o quello che sia di software quindi di generazione prossima successiva direi che ci siamo guadagnati il caffè che ci offre Barbara grazie mille diciamo ai nostri amici da remoto fra un quarto d'ora siamo di nuovo qua ce lo diciamo anche a noi ovviamente grazie a dopo bene allora mi si sente possiamo cominciare con la seconda parte relativa a wikidata io guardo un po' di lato ma più o meno ok dunque wikidata quindi wikidata abbiamo detto è il più giovane dei progetti wikimedia cioè dei progetti che girano attorno a wikipedia è stata progettata per un tempo relativamente lungo perché ovviamente già da molto presto si è cominciato a capire che connettere le diverse wikipedia in modo reticolare cioè che ognuna deve avere un link a tutte le altre quando se ne aggiunge una tutte le altre devono recepire era un metodo estremamente dispendioso quindi fin da wikipedia nasce nel 2001 ha festeggiato quest'anno vent'anni da abbastanza presto non so esattamente da quando perché nel 2001 avevo tre anni però abbastanza presto ci si rende conto che serve un qualcosa di centralizzato che semplifichi l'interconnessione tra i diversi puntini che nel frattempo crescono wikipedia nasce in inglese subito passa diverse lingue ora sono più di 300 ovviamente con diverse grandezze si capisce che serve un punto centralizzato per riunire i vari puntini e possibilmente anche per fare qualcosa di più però diciamo si parte da un'idea molto base lo sviluppo comincia a un certo punto mi pare sia stata annunciata nel 2011 ed è andata online nel 2012 il 29 ottobre quindi stiamo per festeggiare nove anni di wikidata ogni anno poi c'è sempre celebrazioni in giro per il mondo eventi online e quant'altro che annuncieremo con i nostri mezzi più o meno proveremo ad annunciare con i nostri mezzi del gruppo wikidata per museo, archiva e biblioteca magari faremo anche qualcosa a noi quindi wikidata ha quasi nove anni viene sviluppata per conto di wikimedia foundation da wikimedia deutschland quindi è un prodotto tedesco il team di sviluppo è principalmente tedesco sta a berlino e tuttora continua a sviluppare wikidata in vari sensi per migliorare il prodotto com'è anche per espandere ad esempio nel senso di wikidata sta cominciando a diventare anche un dizionario sono stati introdotti le semi quindi c'è anche uno sviluppo nel senso di appunto dizionario che può essere utile per i traduttori automatici e è in continua evoluzione come sempre questa è la pagina principale di wikidata come si vede senza aver fatto il login vedete che in cima adesso non so quanto si vede però in cima in alto a destra non fare zoom perché finisce male diciamo in cima dovreste vedere che c'è un not logged in e poi in fondo c'è la possibilità create account e login di default quindi se non avete fatto il login l'interfaccia in inglese non si può cambiare uno dei vantaggi del fare un account ce ne sono moltissimi di vantaggi uno dei vantaggi è che potete porre la lingua dell'interfaccia in qualunque lingua possiate desiderare più o meno anche in latino mi pare sicuramente c'è in inglese in italiano tutte le lingue più parlate anche meno parlate e diversi alfabeti quindi wikidata appunto è un progetto multilingue questo è uno screenshot di pochi giorni fa in cui c'erano 95 milioni di elementi gli elementi di wikidata riguardano più o meno qualunque cosa nel contesto di oggi diciamo che ci interesseremo in particolare alle persone poi ovviamente su wikidata ci sono elementi su qualunque cosa ci sono elementi sugli enti che possono essere ovviamente autori curatori di opere ci possono essere elementi su luoghi su eventi più o meno qualunque cosa appunto come anche wikipedia su wikidata si inseriscono dati strutturati su qualunque entità e così come ciò che c'è su wikipedia è di qualunque tipo anche su wikidata ci sono elementi di qualunque tipo e innanzitutto ovviamente ci sono gli elementi su qualunque cosa abbia una voce su wikipedia quindi la slide successiva che io farò passare così non ha funzionato ha funzionato adesso ok wikidata appunto wikidata per uniformare i dati non solo delle wikipedia ora questa era una coppia di immagini era la seconda coppia di immagini che peraltro riassume in sé in qualche modo anche la prima che non mostro che girava molto nei primi anni di wikidata io del resto sono diventato un utente di wikipedia quando wikidata stava nascendo quindi questa immagine l'ho vista molte volte me la ricordo bene perché è stato uno dei miei primi modi di capire che cosa faceva wikidata per me che ero partito da wikipedia allora nel senso di questa immagine i puntini rossi sono le voci di wikipedia nelle diverse lingue il punto blu centrale è ovviamente wikidata i quadratini sono i dati strutturati connessi ad ognuna delle voci di wikipedia però riflettendo su questo evento io mi sono detto uno potrebbe benissimo immaginare che invece quei puntini rossi siano i vostri record di autorità delle vostre diverse biblioteche ogni punto rosso ha in sé dei dati oppure magari proprio non ce li ha perché c'è solo il nome dell'autore e basta come il povero puntino che vedete spaiato però ogni puntino ha ha i suoi dati che possono essere dati migliori come sarebbero i dati verde chiaro dati peggiori nel senso di su wikipedia penso si intendesse in generale meno aggiornati ma magari potenzialmente che so anche derivanti da fonti in qualche modo meno attendibili e appunto le diverse fin tanto che i diversi punti che siano wikipedia o che siano diverse biblioteche che lavorano in modo separato c'è una enorme moltiplicazione della fatica necessaria per mantenere questi dati per crearli e per tenerli aggiornati ad esempio aggiungendo le date di morte quando gli autori purtroppo ci lasciano e in questi casi appunto wikipedia cioè le diverse wikipedia sentono il bisogno di avere di avere invece un punto centrale in cui si possa tenere questi dati sempre aggiornati in modo che le diverse wikipedia li possano leggere cosa che ad esempio è anche molto utile soprattutto per wikipedia piccole o dall'altra parte biblioteche piccole che avendo scarso personale possono in qualche modo far ponte sul lavoro fatto da altri che poi su wikidata sono potenzialmente moltissimi in pratica non moltissimi ma comunque abbastanza senza dubbio più del personale di una singola biblioteca anche di grandi dimensioni e quindi appunto avere i dati su wikidata con sé peraltro anche traducibili in modo sostanzialmente automatico anche in termini di generazione di voci in linguaggio umano che è una frontiera che si sta in qualche modo cominciando a esplorare in questi anni cioè generare testo in linguaggio umano da wikidata a livello molto base è già possibile almeno per la lingua inglese e quindi appunto i dati riposti al centro sono lì aggiornati e da lì si irradiano ovunque tra parentesi c'era un altro il punto prima ancora dei dati è quello delle connessioni tra diverse biblioteche cioè se io mi voglio connettere tra diverse biblioteche un conto è se faccio una connessione a reticolo che è estremamente dispendiosa sotto moltissimi punti di vista un conto è che io linko a wikidata chiunque può ridiscendere su tutto il resto quindi questo era il motivo della nascita di wikidata ripeto questo era rapportato alle diverse wikipedie ma nulla vieta di rapportarlo a diversi cataloghi di biblioteche o che so a un catalogo di biblioteca a un sito biografico di vario tipo a un database di un'università che censisce le ricerche dei suoi ricercatori e così via cioè quei punti rossi possono essere praticamente qualunque cosa ora come usare wikidata appunto di base come anche wikipedia come anche come anche qualunque sito che permetta un uso collaborativo non si limita all'uso passivo cioè io posso ovviamente trarre informazioni da wikidata così come posso leggere le voci di wikipedia io posso anche aggiungere informazioni a wikidata aggiungere nel senso anche di modificare rimuovere cose errate unire duplicati e quant'altro insomma io posso anche aggiungere informazioni in senso ovviamente attivo che richiede qualche conoscenza in più insomma per utilizzare ci vuol meno poi anche lì si possono utilizzare informazioni io da utente singolo che vado a vedere in un elemento cosa c'è si possono usare informazioni in modo strutturato io ingegnere software di un catalogo che studio come tirarle giù in modo massivo per mostrare gli utenti quindi appunto ci sono diversi modi di fruire le informazioni ci sono anche diversi modi di aggiungerle posso fare un'aggiunta manuale un'informazione per un'informazione posso fare un'aggiunta manuale con l'aiuto di qualche gadget che mi semplifica qualche operazione pur sempre manuale oppure posso ricorrere a un inserimento massivo massivo in senso stretto e quindi se ho una bella massa di dati già strutturati bene che non è scontato da inserire li posso inserire e poi ovviamente avrò comunque un lavoro di rifinitura da fare in seguito quali tipi di informazioni di base sono due tipi di informazioni come vedremo anche nella struttura dell'elemento cioè da un lato c'è un'informazione potremmo anche dire tre cioè la prima informazione è il nome il nome dell'entità il nome dell'entità può essere espresso in diverse lingue e anche all'interno di una stessa lingua ci possono essere più varianti quindi una prima informazione è proprio base ovviamente il nome poi ci sono i fatti legati a una a un'entità per quanto riguarda noi oggi parliamo in particolare di entità persone quindi i fatti legati a un'entità persona sono innanzitutto dati anagrafici e così via che sono quelli almeno a livello basilare registrati anche in un in un authority file ovviamente Wikidata permette di inserirne anche molti di più si può inserire l'università in cui una persona ha studiato se era membro di associazioni scientifiche tutte le relazioni anche genealogiche che in teoria si possono inserire anche nei cataloghi però sono più rare in Wikidata si possono ricostruire i veri e propri alberi genealogici e così via poi ovviamente un altro tipo di informazione invece sono informazioni come identificativi cioè rimandare ad altri ad altri database enciclopedia e quant'altro di solito online in teoria non strettamente online cioè io ho inserito ad esempio degli identificativi numerici di autori antichi che si rifanno ad opere cartacee che non sono ancora state digitalizzate o che se lo sono state diciamo non mi consentono dato un certo numero di accedere a quella scheda perché non c'è un sito internet così bello che mi permetta di fare ciò però io ho inserito comunque quei numeri perché per uno studioso sapere che un certo autore ha il tale numero in una certa raccolta di frammenti per dire è comunque importante anche se non può accedere direttamente alla risorsa online però ecco in generale gli identificativi nel 90-80% dei casi sono rimandi ad altri siti presenti online come cataloghi di biblioteca enciclopedia e database e così via quindi parti di un elemento di Wikidata che è sempre il fulcro delle presentazioni che faccio qui ho scelto un autore antico anche perché si vede bene per o meno spero si veda bene da lontano però ecco diciamo almeno si vede bene a livello teorico le potenzialità di Wikidata come vedete il primo pezzo dell'elemento di Wikidata che qui ho banalmente posto in visualizzazione italiana quindi vedete la lingua dell'interfaccia in italiano e ho poi ritagliato una serie di schermate per mostrare alcuni pezzi ma in teoria tramite il link che ho preparato nascosto sui due punti potrebbe anche essere aperto online vediamo ecco appunto lo vedete qui in visualizzazione inglese perché non ho fatto il login è l'unica possibilità non avendo fatto il login è la visualizzazione inglese ecco no voi non lo vedete perché l'ho fatto ah no sì lo vedete voi no voi non lo vedete perché l'ho fatto perfetto sull'altro computer scusate ecco lo vedete anche voi adesso appunto questo è l'elemento sempre il medesimo di cui adesso vi mostrerò i pezzettini che ho già ritagliato ed è più facile però appunto l'elemento c'è anche online allora i diversi pezzi dell'elemento vedete innanzitutto ora io non lo posso evidenziare chiaramente ma vedete che a fianco all'esiche di Gerusalemme subito sotto la parola wikidata c'è una q seguita da un numero quella q seguita da un numero è il famoso identificativo permanente di quell'entità su wikidata le entità hanno identificativi che appunto sono diciamo da un punto di vista di un umano opachi nel senso che appunto è un numero quindi per nessuna persona madrelingua di nessuna lingua ha un significato ma questo appunto serve perché si direbbe language neutral cioè appunto è neutrale dal punto di vista linguistico siccome wikidata è un database multilingue il fatto di avere degli identificativi numerici oltre ad essere più breve di qualunque forma che potrai scegliere il linguaggio umano perché alla fine è tendenzialmente più breve poi appunto non è vincolato a una singola lingua e una delle caratteristiche fondamentali di wikidata che del resto nascendo da wikipedia come singolo un globo con diversi alfabeti si capisce che deve nascere multilingue wikidata nasce multilingue quindi appunto sceglie un identificativo di questo tipo che permette di essere appunto poi associato ad etichette in diverse lingue la lettera Q ho scoperto che l'aneddoto che sapevo è vero era oltre ad essere una lettera verosimilmente buona per una serie di ragioni è la lettera che viene dopo la P che è la lettera che invece va per le proprietà le proprietà sono identificate le proprietà sono identificate da una P seguita da un numero gli elementi da una Q seguita da un numero la Q oltre ad essere comoda per vari motivi era effettivamente l'iniziale del cognome della moglie del capo sviluppatore di wikidata quindi che è un'ottima persona si chiama Danny Vrandeci ci ha lavorato anche a Google è croato e adesso sta ulteriormente lavorando a una nuova espansione di wikidata molto molto interessante che nascerà nei prossimi anni ecco Danny Vrandeci ci ha confermato che quella è vera quindi ok la lettera Q seguita da un numero a questa lettera Q seguita da un numero si associano etichette descrizioni e alias in diverse lingue quindi qui vedete un elenco di lingue che ovviamente se io passassi l'interfaccia che so al tedesco vedrei queste lingue denominate in tedesco e vedrei anche che so lingue al posto di lingua vedrei lingue lette in tedesco e così via oppure se passassi l'interfaccia una qualunque altra lingua ovviamente tutte le cose che fanno parte dell'interfaccia si tradurrebbero automaticamente in quella lingua ad ogni lingua appunto si associano un etichetto una descrizione e anche conosciuto come che viene denominato alias viene denominato alias sia in italiano sia in inglese in inglese sarebbe label label description and alias in italiano etichetta descrizione alias e poi ovviamente ci sono mille traduzioni nelle diverse lingue gli elementi di Wikidata essendo che nascono appunto multilingui permettono di dividere le forme le diverse forme nelle diverse lingue e dividere effettivamente per lingua cosa che ad esempio il VIAF non consente nel VIAF che so anche probabilmente quasi tutte le biblioteche varie essendo che è stata di un autore antico usano la forma latina invece appunto in Wikidata io ho le forme nelle diverse lingue divise per lingua quindi l'etichetta è la forma del nome più diffusa quella che andrebbe nel Mark 21 nel campo 100 Stefano ormai qualcosa ho capito a forza di vedere cataloghi quindi dovrebbe essere il campo 100 del Mark 21 la descrizione in linguaggio umano mi dice brevemente che cos'è questa entità in questo caso questa persona e gli alias sempre divisi per lingua mi danno forme alternative del nome che sarebbero il 400 del Mark 21 e quindi appunto a seconda anche della frequenza con cui un determinato nome si incontra nelle fonti quali sono le fonti più attendibili precisiamo su Wikidata non c'è un elenco di fonti una gerarchia definita a priori sono io utente che in base alla mia conoscenza del mondo valuto a seconda delle fonti più attendibili con quale frequenza si presenta una certa forma o un'altra e poi decido quale mettere lì e quale non mettere di fatto poi da un punto di vista anche di gerarchia nella ricerca e così via ciò che c'è nell'alias e ciò che c'è nell'etichetta è equivalente addirittura io posso cercare nella barra di ricerca qualunque etichetta o alias in qualunque lingua e mi viene comunque fuori l'elemento ovviamente le lingue che vedete non sono le uniche su wikidata io potrei potenzialmente tradurre questa informazione in almeno 300 lingue che sono quelle di wikipedia ma anche di più però sono ad esempio io in quanto utente che ha fatto il login a scegliere quale lingue visualizzare di default quindi io ho scelto queste otto lingue poi vedete che l'italiano si reduplica anche in cima perché è la mia lingua dell'interface quindi ce l'ho sia in piccolo dentro la tabella sia più in grande sopra la tabella però appunto io potrei scegliere una diversa lingua dell'interfaccia potrei anche scegliere una diversa selezione di queste lingue che vedete qui in ogni caso le altre sono visualizzabili allora andiamo avanti tra le parti dell'elemento appunto qua ci sono i dati fattuali io non li mostro tutti poi volendo posso scorrere l'elemento e mostrarli tutti wikidata consente ad esempio di gestire di gestire fonti contrastanti qui c'è un contrasto di fonti sulla data di nascita perché ci sono due fonti vedete dove c'è scritto due riferimenti spero si veda due riferimenti che sostengono che è nato nel quarto secolo due riferimenti che danno un'informazione più precisa dicono seconda metà del quarto secolo quindi dal trecento e cinquanta cinquantuno in poi e poi c'è una fonte che dice quattrocento circa quindi io ho deciso di mettere come preferita in questo caso la fonte in mezzo ora non so se si vede però a fianco a quarto secolo ci sono tre pallini e nel caso centrale anzi in realtà sono un pallino e due freccette e nel caso centrale più o meno si vede è evidenziata la freccia verso l'alto che indica che il dato è preferito mentre negli altri casi è evidenziata il pallino centrale che indica che diciamo il dato ha un grado di affidabilità normale quindi appunto passa in secondo piano rispetto al dato preferito Wikidata permette appunto di gestire fonti contrastanti e di farlo anche indicandole e volendo io in questo caso non l'ho specificato ma volendo potrei anche specificare il motivo per cui ho dato la preferenza ovviamente specificarlo in una forma concisa e relativamente strutturata però appunto potrei specificare anche il motivo per cui ho dato priorità ovviamente una cosa del genere specie nel caso di autori antichi o comunque medievali autori diciamo in generale non contemporanei a volte anche contemporanei è particolarmente utile perché appunto non mi obbliga come potrebbero essere come potrebbe accadere invece in database più rigidi a fare una scelta omettendo del tutto le altre alternative le posso mettere in ogni caso quindi qui vedete degli esempi di dati fattuali ecco qua vedete il riferimento aperto questo è il riferimento che si apre si mostra agli occhi di chi lo vuole vedere e nel riferimento vedete appunto la fonte dell'affermazione poi quella fonte io specifico qual è proprio il punto del in questo caso di un catalogo di biblioteca nel caso sopra nel caso sotto è l'enciclopedia ortodossa che è in russo vedete appunto il link preciso all'identificativo che poi appunto unito all'altro pezzo dell'indirizzo mi dà un indirizzo in cui io posso entrare cliccando e poi dico appunto in che data ho consultato la mia fonte il che per le fonti online ma in generale è sempre fatto che non si sa mai che muoiono o cambino quindi è sempre meglio indicare la data di consultazione e quindi appunto qui vedete il riferimento aperto andiamo avanti si potrebbe allora vediamo se lo riesco a coprire ecco poi qui vedete altre informazioni fattuali qui vedete allora l'occupazione vedete presbitero ed esegeta probabilmente sono cose che potrebbero andare anche in un catalogo di biblioteca interessante che ad esempio wikidata beh non fa neanche troppo rumore è interessante che in wikidata ci sono anche informazioni che ad esempio di solito magari non andrebbero in un catalogo tipo essendo santo c'è anche la data di ricorrenza che è mi permetti andrebbero andrebbero in un catalogo ma il catalogo in genere le avrebbe come note ecco dove hai tutto lo spazio per voi però qui invece assumono una forma strutturata potrei fare molto superiore a quella del Mark per certamente potrei fare un bellissimo calendario dei santi che hanno opere nel mio catalogo e vederlo su un calendario questo wikidata me lo consente potrei anche fare un calendario dei santi che hanno un'opera sia nel mio catalogo di Stefano sia nel catalogo di un'altra biblioteca qui presente e potrei fare questo calendario oppure che le hanno nel catalogo di Stefano ma non nell'altro catalogo e così via questa è la bellezza di wikidata e quindi vedete anche la ricorrenza che se ben ricordo ha come fonte sempre l'enciclopedia ortodossa che ci è molto utile in questo caso e anche potenzialmente come fonte per autori russi e così via andiamo avanti poi qui vedete un pezzo di identificativi a partire dal viaf non è casuale che abbiamo preso un caso dove ci sono più viaf perché abbiamo una particolare simpatia per il viaf proprio per questo aspetto che ha tanti identificativi e che ci costringe ad usare il nostro ingegno per riunirli tutti dentro wikidata quindi qui ne vedete sette non è uno dei casi peggiori ovviamente di solito ce n'è uno più grande che è quello che cerchiamo di mettere in cima il viaf quello grande poi ci sono quelli che io chiamo i coriandoli che vanno vanno diciamo dispersi e poi talvolta il viaf recepisce il fatto che siano nello stesso elemento di liquidate per quello che noi fin tanto che esistono non li rimuoviamo non appena il viaf ha capito che vanno uniti e li unisce noi siamo molto contenti di rimuoverli e quindi appunto questi sono il viaf sta in cima agli identificativi dopo il viaf vengono altri identificativi qui ne mostro alcuni per vedere anche la varietà di cose che ci sono in wikidata ad esempio in cima vedete ciris ciris è un database di autori antichi fatto dal cnrs francese che mi dà informazioni su autori antichi in forma strutturata molto carino fondamentale per gli autori greci e latini sotto vedete il dictionario de spiritualité che è un dizionario molto bello relativo a in generale persone importanti in ambito cristiano ma credo non solo purtroppo è a pagamento ma non si sa mai che magari la vostra biblioteca abbia un abbonamento la mia non ce l'ha quindi posso vedere solo l'incipit però appunto è un'ottima fonte anche credo proprio da consultare a livello di ricerca magari non sarà così noto ad esempio uno attraverso wikidata se non sa che esiste scopre che c'è sotto vedete un catalogo di biblioteca che peraltro usa COA l'Ecole Bibliique et Archaeologique Française de Jerusalem poi avevo preparato anche un'altra schermata vedete l'enciclopedia ortodossa di cui abbiamo parlato quindi sempre la fonte enciclopedica Pinakes fondamentale catalogo di manoscritti se io voglio sapere su quali manoscritti sono presenti le opere di un autore greco antico anche greco medievale Pinakes è la fonte in assoluto massima e fondamentale per persone che appunto studiano lettere antiche o anche letteratura bizantina e sotto vedete il catalogo di Stefano quindi appunto sempre un catalogo di biblioteca che però non è una biblioteca nazionale ma tramite wikidata può comunque avere parte in questo in questo insieme qui vedete un pezzetto di una query che io ho fatto e che si può aprire adesso incrociamo le dita questa è una query che si apre così e che poi si fa partire col tasto di play vediamo un po' play ok questa query che poi mi dà un risultato lì si sta già vedendo ok perfetto anche di là ecco questa è una query che ci mostra adesso dovrai vedere il numerino sono 595 si vede qua 595 dove c'è la cosa in grigio qui sono 595 gli autori che su wikidata sappiamo già essere presenti in 5 biblioteche che sono la rete urbs il catalogo collettivo sempre search e poi ci ho messo il piac l'american academy e l'istituto svedese potenzialmente se ne possono aggiungere anche altre non ho messo quella di Stefano anche perché diciamo siccome ad esempio quella di Stefano è un po' meno di ambito archeologico mentre qui l'ambito archeologico storico-artistico mi pare piuttosto spiccato quindi il numero di coincidenze è maggiore peraltro due giorni fa mi pare che fossero 585 perché nel frattempo ho creato qualcosa io quindi appunto qui vedete una lista di autori che si scorre così poi potenzialmente potrei ordinarli anche qui sono ordinati per ordine alfabetico per nome qui vedete una serie di autori che appunto sono già connessi su wikidata a tutte e cinque questi cataloghi e che quindi sappiamo essere sappiamo essere appunto comuni a queste biblioteche e su cui quindi ad esempio se io andassi a migliorare uno di questi autori che so questi autori qua in mezzo dove vedete che manca il campo di descrizione è perché la descrizione manca in italiano magari c'è una descrizione in inglese però io qui ho mostrato solo le descrizioni in italiano e quindi la descrizione in inglese non appare potrei dirgli se non c'è la descrizione in italiano mostrami quella in inglese allora apparirebbe se io vado ad aggiungere una descrizione breve in italiano per uno di questi autori so che potenzialmente questa descrizione potrebbe essere utilizzata da tutte e cinque queste biblioteche potenzialmente anche mille altre biblioteche in giro visto che si tratta in generale sempre di autori particolarmente importanti ora appunto magari torno al powerpoint ok e vado avanti si fa così cosa la query interroga wikidata interroga wikidata vede se c'è un authority record di queste cinque e quindi appunto vedendo che ci sono tutti e cinque va a mostrarmeno dentro i risultati e sparkle che è una derivazione di sql è un tipo particolare di sql adesso esattamente adesso no questo è esicchio esattamente ora qua in cima vedete appunto vedete queste qui sono le triple vedete qui ci sono cinque triple e queste cinque triple sono sempre l'autore è nel catalogo 1 l'autore nel catalogo 2 l'autore nel catalogo 3 e tramite queste e così via e poi di fatto non gli sto chiedendo praticamente nient'altro gli sto chiedendo di mostrarmi gli autori che hanno tutte e cinque queste condizioni cioè avere un identificativo di ciascuno dei cinque cataloghi e questo appunto è solo uno dei possibili dei possibili usi allora torniamo al powerpoint allora lo strumento fondamentale per fare gli abbinamenti è mix e match di cui mostriamo un pezzettino di schermata sul catalogo search su cui abbiamo cominciato a lavorare sempre più o meno un annetto fa d'occhio e croce ovviamente come funziona mix e match non lo mostreremo in questa situazione se non per sommi capi particolarmente concisi però appunto di base vedete che ci sono tre c'è anche una il no wikidate è un relitto del passato non ci badate diciamo che ci sono quattro voci che sono abbinati manualmente automaticamente non applicabili a wikidate non abbinato gli abbinati manualmente sono gli abbinamenti sicuri che sono stati fatti o a macchina sulla base di nome uguale e cioè sulla base di nome anno di nascita e anno di morte coincidenti quindi se coincidono nome anno di nascita anno di morte la macchina può fare un abbinamento automatico il che avviene in un diciamo 20 30 più 20 per cento dei casi poi anche lì a seconda di quante date ha il catalogo e così via oppure potenzialmente avviene un abbinamento manuale anche se il catalogo contiene al suo interno dei via o degli ismi o qualcosa anche questo non è molto frequente ma se ci sono ovviamente questo aumenta di molto il numero degli abbinamenti manuali ciò che non si è degli abbinamenti manuali fatti a macchina poi molte cose finiscono agli abbinati automaticamente cosa significa significa che di base il nome presente nel mio catalogo è presente in wikidata coincide però siccome non ho date non ho altre cose che mi consentono di capire se si tratta veramente della stessa persona o di un omonimo l'abbinato automaticamente ha bisogno di una verifica umana quindi io vado lì e dico sì è il medesimo autore no non è il medesimo autore mentre i non abbinati diciamo che il nome in wikidata non si trova e quindi o in wikidata c'è una forma diversa del nome il che in rarissimi casi può accadere però diciamo nella gran parte dei casi non abbinati vanno creati ex novo e quindi io devo mettermi lì a creare un elemento di wikidata più o meno da zero aggiungendo poi una serie di informazioni che consentono anche ad altri di capire che cos'è quella persona rappresentata da quell'elemento di wikidata e quindi poi magari di agganciarsi sempre a quell'elemento di wikidata la voce non applicabile a wikidata si usa per ad esempio se io trovo che so un record di autorità di questo catalogo che è stato creato per errore e non contiene niente oppure che è stato poi cancellato perché era un duplicato e così via quello non si potrà connettere a wikidata perché non si può e quindi si segna che non si può e lo si segna mettendolo nei non applicabili però appunto sono casi estremamente rari quindi come vedete il lavoro di abbinamento ci ha già dato un terzo degli autori più di un terzo degli autori di search connessi a wikidata con l'unico disclaimer che questa estrazione di un anno fa quindi non sono contati gli autori creati nell'ultimo anno circa che però si possono aggiungere cioè si può si può aggiornare il catalogo aggiungendo anche gli autori creati negli ultimi tempi diciamo che sugli autori che c'erano fino a un anno fa più di un terzo è stato abbinato a wikidata e ci sono buone possibilità che anche un altro terzo degli autori si possa abbinare con relativa semplicità mentre l'ultima parte potrebbe richiedere e richiederà più fatica qui vedete una piccola schermata degli abbinamenti degli abbinamenti automatici che io devo confermare o rimuovere vedete che è estremamente semplice in alcuni casi vedete che c'è pure la data ad esempio vedete François Barat c'è la data c'è solo la data di nascita ecco mix and match non si fida non si fida se ha solo l'anno di nascita anche se coincide vedete François Barat 47 François Barat archeologo del 47 coincide però mix and match mi chiede che l'umano vada lì a confermare perché se non ha proprio il giorno di nascita non si sa mai che ci siano due Francesco Rossi due Silvia Pellegrini nate nel 65 quindi preferisce un controllo umano che non si sa mai oppure anche dove c'è solo la data di morte vedete Pedro Juan Belliuga qualcosa deve essere lo stesso evidentemente di Pere Belliuga però lì mancava a parte il fatto che il nome è leggermente diverso insomma anche lì serve un controllo umano e così via altri invece non hanno proprio date quindi il controllo umano serve a maggior ragione io confermo rimuovo un po' di cose dopo ciò appare così appare così nel senso che io su questi otto abbinamenti ne ho confermati sei e ne ho rimossi due quei due che ho rimosso sarà perché verosimilmente dovrò andare a creare un elemento ex novo e questo di base è il lavoro più facile cioè il lavoro che si fa appunto di abbinamento tra identificativo del mio catalogo ed elemento di Wikidata che sembrerebbe se l'abbinamento è corretto sembrerebbe esistere già poi cosa ho messo dopo ecco dopo ho messo questi sono autori comuni infatti questa è un'altra schermata mi pare uguale o simile a quella di prima ecco questi invece sono gli autori da fare cioè questo è sempre un pezzo di mix and match che mi permette di vedere diciamo stringhe di autore uguali presente nei cinque cataloghi di cui abbiamo parlato cioè Urbs Search Piac American Academy e Istituto Svedese queste qui sono stringhe di autori uguali che è abbastanza verosimile che nella maggior parte molto maggior parte dei casi rappresentino sempre la stessa persona poi ovviamente potrei avere più dubbi che so oddio potrei avere più dubbi ad esempio su Alessandro Bonanni che mi sa di nome un po' più comune mentre Alberto Moravetti mi suona di nome meno comune anche Alessia Morigi diciamo in generale sono tutti nomi che quasi sicuramente anche trattandosi di cataloghi che hanno lo stesso ambito disciplinare sono quasi sempre la stessa persona e quindi io andando a creare qualcuno di questi autori tendenzialmente faccio un servizio a tutti e cinque i cataloghi qui vedete come si presenta entrando in Alberto Moravetti Alberto Moravetti ammesso che sia la stessa persona e lo è è presente in una serie di cataloghi che Mix & Match contiene che sono il catalogo del servizio bibliotecario sloveno Urbs il catalogo delle biblioteche universitarie polacche il PIAC Search American Academy Istituto Svedese e la scuola archeologica italiana di Atene di cui abbiamo parlato prima tutte queste entità di fatto sono la stessa anche se come vedete è interessante che a parte l'American Academy che è connessa alla Library of Congress e a parte le biblioteche universitarie polacche che sono connesse al Via Feallisni e gli altri non sono connessi a niente quindi cosa si fa? Si fa si crea l'elemento adesso io sono passato direttamente all'elemento creato che ho creato io e vedete che infatti è molto recente siamo a Q 108 milioni e qualcosa questo elemento di base contiene i pezzetti che vi ho mostrato prima che qui ho rinito in un'unica slide e cioè ha un identificativo unico la lettera Q seguita da un numero che ovviamente essendo un elemento recente è alto ormai diciamo che per un po' di tempo mi sa per vari annetti a questa parte dovremmo avere dei Q a nove cifre nove cifre più la lettera Q avevamo appunto un'etichetta in italiano che poi è tendenzialmente uguale all'etichetta in altre lingue certo se avesse un'etichetta in cirillico o in greco sarebbe diversa c'è una descrizione in italiano poi ci sono anche io ho messo anche una descrizione in inglese italian archeologist and pre historian ci sono dei dati tra cui vi ho mostrato in particolare la data di nascita che ho tirato fuori con precisione giorno vedete primo dicembre dalla dalla BNF ricordiamo che tutti i cataloghi che ho mostrato non avevano una data tutti questi perlomeno non ce l'avevano mentre adesso che c'è su itidata con fonte BNF passa a disposizione di tutti vedete l'occupazione archeologo storico della preistoria vedete una serie di identificativi tra cui ho evidenziato proprio quelli delle cinque biblioteche di cui stiamo continuando a parlare di mezzo c'è anche la scuola archeologica italiana di Atene e poi ovviamente però oltre questi identificativi ce ne sono anche altri ce ne sono anche altri ad esempio tutti i membri del VIAF e così via quindi appunto ora io non ho mostrato il processo intermedio di creazione perché avrei dovuto fare tanti istantanei ma potenzialmente si potrebbe anche fare quasi in diretta dopo questa slide credo di aver quasi finito questa è la roadmap che abbiamo steso assieme a Stefano e cioè cosa dovreste e speriamo che voi facciate cosa potreste e secondo noi potreste proprio fare la roadmap appunto comprende esatto diciamo che il punto 1 ce l'avete tendenzialmente e cioè tutti voi che avete COA e penso anche persone che hanno un altro oddio è meno certo però in generale il vostro ILS dovrebbe avere degli identificativi stabili e pubblicamente disponibili per COA ci siamo a questo punto ci sono due passaggi facili che vi facciamo noi bonus bonus nuovi clienti vedete appunto che verrà creata una proprietà di Wikidata come abbiamo detto prima che avrà il suo bel numero e tante belle cose poi Stefano se gli date i dati o se no se si li prende tramite uno scrape creerà un catalogo di mix e match con tutti i vostri autori per molte delle vostre biblioteche in realtà questi tre passaggi li abbiamo già fatti noi quindi non dobbiamo nemmeno farli adesso a questo punto restano gli altri passaggi e cioè migliorare i propri record di autorità ad esempio aggiungendo Wikidata cosa che si può fare ad esempio per il pregresso si può fare a macchina più o meno con qualche dipende però diciamo ad esempio se create nuovi autoriti nel vostro catalogo potete già inserire Wikidata nel momento in cui li create quello sì ed è anche una cosa buona potete imparare ad usare Wikidata mix e match con noi che possiamo fare ulteriori incontri come questo più o meno in presenza più o meno online per parlare più specificamente di come si lavora su Wikidata dopo aver imparato la cosa importante è che lavoriate veramente questo l'abbiamo messo in grassetto per essere per essere chiari dopo ciò ci sono altre cose che saltano fuori grazie a Wikidata cioè i vostri duplicati molti li abbiamo già notati e sono pronti perché li uniate altri salteranno fuori lavorandoci sopra perché specie per gli autori antichi non è solo il DIAF ad avere problemi ma sono anche proprio le singole biblioteche in sé che possono avere problemi di questo tipo e l'ultimo punto in realtà è più diciamo negli obiettivi a medio o lungo termine ma forse neanche troppo lungo studiare miglioramente i propri cataloghi o a sistemi collettivi ad esempio l'authority box che proprio in questi tempi grazie anche a collaborazione greca dovrebbe dovrebbe diciamo sorgere in forma ancora più splendente e diciamo modulare per diverse esigenze quindi l'authority box sta diciamo è piuttosto vicino a voi oppure anche altri usi del tipo quello del COBIS che abbiamo visto potrebbero essere più lontani ma diciamo maggiore maggiore è la percentuale di autori connessi a Wikidata come abbiamo visto per molti dei vostri cataloghi è già attorno a un terzo quindi è piuttosto buona maggiore è la percentuale di autori connessi a Wikidata maggiore è la percentuale di autori che possono poi usufruire di arricchimenti a vario titolo tramite Wikidata cosa c'è ancora vediamo subito allora mi sa che non c'è più niente no infatti questa era l'ultima slide quindi non ci ho messo un grazie però vi ringraziamo comunque vi possiamo mostrare quella cosa che abbiamo menzionato e che adesso devo aprire su due computer e cioè la pagina delle statistiche che è anche mostrata all'interno di all'interno del flyer adesso io la proverò a mostrare prima su un computer e poi su un altro a cominciare da quelli in sala scusate allora user di appunto slash slash statistics e poi Stefano apri qualcosa io intanto la metto sull'altro si apri apri qualcosa io intanto la metto su per le persone online ok allora ecco si staccano caricando delle query questi sono dati estratti in diretta tutto da wikidata in questo caso vedete siamo dentro wikidata adesso aspettate che ne parli che lo metto anche per quelli online il che richiede un attimo di adattamento a una nuova tastiera allora dunque ci sono quasi eh digitato giusto sì adesso col mouse che ho qua statistics qual è distribution occupation perfetto ok allora questi dati ovviamente oh si è caricato velocissimo anche online perfetto è chiaro esattamente eh allora qui vedete che praticamente abbiamo eh mostriamo i primi sei questi qua sono distribuzioni appunto sull'occupazione quindi eh si basano su ovviamente gli elementi che hanno il vostro identificativo in richidata che a seconda dei vostri cataloghi sarà il 25 30 35 40 45 per cento degli autori quindi ovviamente sono statistiche parziali poi ovviamente bisogna togliere gli autori per cui l'occupazione non è nota e dovremmo aggiungerla eh per quanto riguarda gli autori la cui occupazione è nota e che sono connessi viene fuori una cosa di questo tipo ehm che ovviamente poi ha variabili gradi di precisione a seconda di come è stata giunta l'occupazione però diciamo può dare un'idea interessante dell'argomento dei vostri cataloghi che è già un aspetto interessante ad esempio adesso mi sporgo per vedere cosa c'è scritto allora ad esempio il catalogo dell'angelicum evidentemente ha in cima eh il catalogo dell'angelicum ha tra i primissimi posti teologo filosofo e eh sacerdote cattolico il che non è evidentemente casuale come anche molto simile anche quello che c'è per il catalogo di Stefano sempre teologo eh sì teologo sacerdote cattolico filosofo sta un po' sopra mentre ad esempio rete urbs se scendiamo sotto lo leggo io vedete che ci sono no forse non lo vedete ma lo leggo io pittore storico dell'arte e archeologo e anche poco sotto filologo classico eh mentre ad esempio qui sono più in basso ma comunque presenti teologo e sacerdote cattolico e poi c'è anche linguista ancora più giù ecco questo dà un po' un'idea dei ehm ovviamente dell'argomento di un determinato catalogo mentre addirittura per il PIAC che guarda a casa è messuto di archeologia subito sotto professore universitario c'è archeologo poi storico storico dell'arte teologo e così via mostriamo anche un'altra pagina di statistica eh con le nostre eh capacità tecniche su due computer allora andiamo indietro mostriamo la statistica sull'epoca che comunque è interessante allora la statistica sull'epoca mi dà banalmente il secolo eh anche questa è carina ehm anche qui ovviamente c'è sempre il disclaimer del fatto che ehm del fatto che ehm mancano più che mancano date e poi ovviamente solo una parte di questi cataloghi è connessa a Wikidata quindi eh gli autori che non sono connessi a Wikidata non rientrano in queste statistiche che potrebbero diciamo ehm dare dei risultati in modo rilevante diversi però ecco ad esempio il catalogo di Stefano che vedete qui in cima eh ha tre quarti degli autori nati nel novecento appunto diciannove puntino puntino sta per novecento quindi poi c'è un altro pezzo di autori consistente nato nell'ottocento e poi ci sono cifrette varie mentre se scendiamo su rete Urbs ad esempio vedete che la percentuale di autori nati nell'ottocento e soprattutto la percentuale di autori nati in secoli precedenti all'ottocento è decisamente maggiore eh così come anche un dato simile sia ad esempio sul sull'istituto di archeologia cristiana o anche vedete vedete ad esempio ancora di più vedete search search sono ancora di più gli autori che non sono né del né del novecento né dell'ottocento poi ovviamente diciamo ripetiamolo ancora magari tutta la metà degli autori mancanti è nata nel novecento e quindi in realtà la statistica è molto diversa però appunto per quanto riguarda gli autori gli autori presenti si fanno statistiche molto belle e ovviamente più sono gli autori più queste statistiche hanno valore poi ci sono statistiche di altro tipo mostriamo soltanto i titoli i titoli di queste statistiche sono ad esempio la completezza cioè ad esempio se manca l'occupazione o se c'è e poi ad esempio sono anche statistiche su quanti altri identificativi ci sono su quante wikipedie sono su quante wikipedie sono legate agli autori in questione e così via si possono fare statistiche di tipi estremamente vari anche solo sugli autori nati nati in Italia o sugli autori nati all'estero o si possono fare anche statistiche ad esempio su una bella mappa dei luoghi di nascita ovviamente anche lì la mappa dei luoghi di nascita ha rilevanza fin tanto che i luoghi di nascita ce li abbiamo per un numero maggiore o minore di autori però ecco un'altra funzione interessante magari meno rivolta agli utenti del catalogo generici e più rivolta a storici o persone che fanno studi sui cataloghi e sui patrimoni librari può essere anche può essere anche questa che in ogni caso è una rappresentazione molto interessante e diciamo è solo un esempio degli usi che di wikidat si possono fare a questo punto apriamo alle domande vi ringraziamo domande facciamo le domande col microfono gelato facciamo le domande se ci sono vi porto il microfono questa è una cosa che avevo chiesto prima al caffè wikidat è qualcosa che riguarda per il momento che è utile per gli autori e che è più facile come dire creare per gli autori naturalmente per altro genere di informazioni sarebbe molto più complicato penso ai progetti penso a autori come dire corporativi o cose di questo genere quindi per il momento si tratta di questo o luoghi ecco che devo diciamo anche di soggetti ce ne sono tanti wikidat è allineata anche a molti soggettari come quello dell'Arb of Congress in parte anche quello della BNF buonanotte della BNCF il nuovo soggettario della BNCF cioè in realtà abbiamo anche molti soggetti già pronti ovviamente di soggetti ne mancano e creare un soggetto cioè creare un elemento relativo a un concetto è più complesso perché poi quell'elemento va inserito tutto nell'ontologia per capire di che cosa cioè quel concetto a che cosa sta sotto a che cosa sta sopra quindi ovviamente creare un concetto è più difficile cioè richiede un maggiore sforzo un maggiore sforzo che non creare un autore in generale però in realtà si può si può parlare anche di concetti e ce ne sono già tanti in realtà su dichi data sempre la domanda che ho fatto a Camillo a Cappè il controllo delle informazioni su dichi data è dato dalla quantità chi controlla dichi data chi controlla i dati di dichi data allora il concetto diciamo è sempre quello di wikipedia cioè di controlla la comunità diciamo che si possono dire alcune diciamo ci sono due differenze fondamentali rispetto a wikipedia a wikidata è almeno fino a questo momento in generale meno appetibile per i vandali mentre diciamo c'è molta gente che prova a gusto a vandalizzare una voce di wikipedia a vandalizzare un database per quanto possa avere almeno in teoria delle conseguenze negative maggiori però è molto meno appetibile quindi ci sono meno vandalismi quindi meno diciamo meno modifiche dannose intenzionali e comunque su wikidata lavora relativamente poca gente e sono la quota di specialisti è in generale più ampia rispetto a wikipedia quindi anche l'inserimento di informazioni imprecise o errate in buona fede è comunque meno frequente in secondo luogo wikidata è strutturata a differenza di wikipedia quindi ci sono mezzi di controllo semi-automatico abbastanza efficaci che consentono almeno in una buona parte dei casi di individuare informazioni errate del tipo se io cambio una data di nascita mettendola dopo la data di morte quello lo becco subito tramite mezzi di questo tipo o anche altre cose però appunto diciamo che il controllo è comunque più facile e poi appunto ogni informazione in wikidata come ho mostrato ha dei riferimenti quindi si può anche fare un controllo manuale cioè io entro nel riferimento che di solito non sempre ma di solito è un sito internet e vedo se quell'informazione è corretta poi diciamo che su wikidata in teoria ci sono molti più occhi nel senso che se i dati di wikidata vengono riutilizzati altrove in moltissimi posti ci sono moltissime persone che so magari non me ne accorgo io ma se ne accorge un riutilizzatore di wikidata in Australia quella data è errata o perché è stata inserita male o perché è stata vandalizzata e la va a correggere lui cioè più più sono le persone che riutilizzano wikidata più wikidata è controllata e quindi più probabile che eventuali problemi vengano notati ammesso che la persona sappia che quei dati vengono da wikidata il che non è detto esatto cioè tutte le modifiche come su wikipedia sono tracciate questo sì cioè resta traccia di tutto si può tornare indietro certamente esattamente esattamente ultima cosa magari è una cosa che non so io come si lega le informazioni di wikidata in un'altra data questo fa parte e gli utenti e come gli utenti non noi staff che l'hai fatto vedere quello che hai chiesto in fondo è come riuso tutta quella informazione cioè come dicevo forse prima non possiamo offrire agli utenti la pagina wikidata non capirebbero è fuori dal nostro catalogo quindi tutto un altro aspetto non saprebbero utilizzarla e farne un uso che potenzialmente è compresi i grafici che ha fatto vedere quindi dobbiamo incorporare nei nostri servizi questo queste possibilità che abbiamo visto quindi adesso siamo di fronte a potenzialità ma nei nostri progetti per esempio come quello di cui parlava la collega durante il caffè dobbiamo pensare quindi a dei progetti che servono a noi per andare a tuttare tutta questa informazione e questo legame di informazione che abbiamo costruito quindi sta a noi a nostra istituzione a fare uso dei linked data il COBIS era un esempio l'authority box è un altro esempio ma ognuno di noi avrà delle necessità diverse in funzione della tipologia di materiale che ha per esempio il digital library che possiede legandole al catalogo oppure pensando alla propria utenza se deve offrire la propria utenza dei canali di ricerca molto più approfonditi possibile rispetto agli autori che tipicamente vengono a cercare da noi che vengono a cercare l'ideologia appunto probabilmente sono interessati a vedere quante altre biblioteche della zona analoghe alla nostra o forse no bisogna vedere che concorrenza vogliamo reggere trattano lo stesso autore questo è un esempio di generazione di testo in inglese da Wikidata che può essere anche diciamo ad esempio una forma più human friendly dell'elemento di Wikidata potenzialmente presentabile poi vedete anche qua sotto i dati che vengono ovviamente qui c'è qualcosina da sistemare il fatto che la madre venga fuori tre volte o anche che qui la seconda moglie vengano presentate due volte è dovuto a un piccolo problema nel sistema anche il fatto dei figli c'è un figlio menzionato tre volte ecco ci sono dei piccoli problemi in questo sistema di generazione del linguaggio umano però ecco di base Wikidata permette di giungere anche questo e questa può essere ad esempio una forma più più human friendly appunto in cui presentare le informazioni tratte da Wikidata lo mostro giusto perché poi su questo si sta lavorando quindi nei prossimi mesi anni questo potrebbe diventare migliore peraltro anche per lingua diversa dall'inglese altre domande ho notato nella costruzione della diciamo della stringa la definizione teologo astrologo c'è un problema di lessico c'è un problema riguardo a quante informazioni puoi mettere in quella stringa mi sono confrontata per esempio ecco personalità tipo che sono teologi sono anche preti presbiteri poi abbiamo tutta una serie di problemi facerdoti abbiamo una serie di problemi lessicali poi abbiamo magari anche astrofisico allora quindi il lessico l'ordine in cui vengono inserite queste definizioni sono controllate c'è bisogno di avere una certa attenzione come può essere gestita quella che mi sembra la cosa meno controllabile più umana diciamo della della descrizione sì esatto diciamo è appunto quel campo è proprio è molto libero diciamo che anche la parte non è la parte più importante cioè la parte più importante è che ovviamente siano messi bene più che altro ad esempio il campo occupazione che invece è un campo strutturato quindi nel campo occupazione si può mettere tutto cioè se uno è teologo sacerdote astrofisico eccetera quali si mettono tutti in occupazione poi la descrizione in realtà può anche essere lunga quindi la descrizione uno si può anche si può anche dilungare di solito allora diciamo come pratiche di solito si tende a mettere per quanto riguarda gli umani in particolare per quanto riguarda gli umani contemporanei si mettono le occupazioni più o meno in ordine a seconda di importanza o di ordine che dà un'altra fonte spesso si segue l'ordine che so che dà la BNF o GND o SBN quindi oppure anche che so se un'occupazione è menzionata solo da alcune fonti e altre da meno fonti si mette prima quella menzionata da più fonti insomma non c'è un criterio preciso si va in generale sempre secondo più o meno buon senso secondo quella che si vede essere la pratica comune però appunto da un lato si può dire che la parte comunque più importante è sempre il campo strutturato dall'altro appunto in generale se nella descrizione si mettono le varie occupazioni poi si mette una nazionalità e tendenzialmente il mio consiglio è la pratica che sto ultimamente seguendo e consigliando io di mettere anche le date di nascita e di morte in fondo già nella descrizione oltre che ovviamente nella parte strutturata perché ad esempio se uno cerca proprio già di primo acchito ha già d'impatto sa dove collocare quella persona se è andata nell'ottocento nel novecento e quindi ha già poi per carità se no può scendere nell'elemento e vedere nel campo strutturato però anche avere già l'anno di nascita e di eventuale morte in cima può essere utile quindi tendo a dire che sia meglio metterlo Stefano aggiungerei questo questa descrizione tutto sommato è quella che noi vogliamo fare nel Marche 21 nel 6-7-8 è chiaro che non possiamo chiedere a Wikidata di essere un catalogo di biblioteche non abbiamo la possibilità di chiedere un così vasto ambiente diciamo ambito di utenza di chi ci scrive di seguire delle linee coerenti che ci piacerebbero quindi a Wikidata non chiediamo questo e non possiamo qualcosa si può fare qualcosa si può fare si può fare certamente ci sono delle indicazioni che vengono date però non possiamo sperare che calzi esattamente con il nostro catalogo quindi alcune cose il dato strutturato soprattutto appunto quello precisissimo è ottimo e lo possiamo sfruttare altre avremo da fare i conti con una possibile differenza di vedute se io ho la forma preferita che vorrei nell'etichetta ma invece trovo nell'alias magari posso anche spostarla però potrei essere anche diciamo domani me la potrebbero rimettere come era prima e hanno tutta la libertà come l'avevo io di fare il primo cambiamento quindi il gioco di forma etichetta rispetto agli alias è la storia dei cento e quattrocento di tutti i nostri cataloghi se la maggior parte delle fonti italiane della tua parte è legittimo che tu modifichi etichetta se ovviamente tu decidi di seguire una particolare fonte che però magari è minoranza è chiaro che può rimanere come alias però appunto poi nella barra di ricerca di wikidata possiamo anche porre l'esempio a schermo l'esempio di esichio di gerusalemme se io cerco qui tipo esichios cosa sto scrivendo esichios fon oddio cosa ho scritto esichios fon ecco io sto cercando la forma tedesca e vedete che tra i risultati mi appare no perché lo sto mettendo nell'altro computer ecco lo vedete che anche cercando ad esempio l'etichetta tedesca anzi quello è un alias tedesco perché l'etichetta tedesca era solo esichios ma anche cercando anche cercando un alias tedesco mi viene fuori comunque la persona quindi di fatto poi come dicevamo la gerarchia cioè nella barra di ricerca qualunque etichetta o alias in qualunque lingua ha la stessa rilevanza e quindi di fatto il problema si risolve in questo modo sì sì vabbè intanto per esperienza posso dire che l'etichetta sono pesce man mano che si lavora che si lavora poi veramente arrivano idee progetti e vabbè noi abbiamo visto che che la mission che la mission vado che la mission principale che ci è stata illustrata di questo lavoro grazie anche a non solo allo strumento di Wikidata ma i suoi tool per esempio Mixed & Match è quello di andare nella direzione dei link ed open data no fondamentalmente l'obiettivo è collegare tutti questi dati di biblioteca e non solo però ecco la mia riflessione era che magari per istituzioni come quelle a cui apparteniamo può anche essere importante porre l'accento sul fatto che questo lavoro ci costringe anche a ragionare poi sui nostri di dati perché quando proviamo a collegarli o a vedere se sono collegati agli altri ci ritorna lo specchio sul nostro lavoro sui nostri dati di autorità quindi questo è un modo per vedere che dati abbiamo come li possiamo sistemare anche cogliere delle criticità perché magari nei nostri database è facile creare un nuovo dato di autorità è più difficile voler magari dire ok mi voglio mettere a sistemare i miei record di autorità come faccio questi match che ci vengono serviti quasi su un piatto d'argento ci danno l'occasione di concentrarci su quell'elemento e di scoprire che magari ha una criticità che manca qualcosa che c'è un doppione tutta una serie di casi in cui noi ci siamo imbattuti quindi magari questo riscontro immediato sui nostri dati può essere non solo un forte motivatore ma anche un aiuto per legittimare penso un po' giustificare anche il nostro operato all'interno delle nostre istituzioni cioè che per cui non è solo scusate un piacere personale non so lavorare è una cosa che può fare chiunque non serve essere un bibliotecario basta registrarsi e lavorare ma è un lavoro che ha un riscontro diretto allora questo può veramente rientrare penso nella parte istituzionale che noi svolgiamo presso le nostre appunto istituzioni anche legittimarla agli occhi dei nostri diciamo amministratori ecco c'è solo una riflessione logica e al tempo stesso aggiungerei questo la catalegazione è un lavoro molto intellettuale è molto più intellettuale quello perché la macchina non lo può fare lo potesse fare la macchina capisco ma arriva fino a un terzo mix e mezzo dopo o anche meno perché ovviamente si basa sui dati che ci sono i dati che non ci sono entra con fronte a queste capacità la macchina forse con l'intelligenza artificiale aumenterà queste capacità sì ma si non arriverà è certo io sono comitato il catalegatore è una persona che deve mettere le capacità intellettuali per arrivare fino ad adesso abbiamo visto comunque che mix e match riesce a fare alcune cose poi a mano ne possiamo fare altre modal che salgano di livello che l'aggancio si formi aggiungo però che ci sarà sempre una parte che si fa molto a mano cioè che non ma non solo ma ci saranno anche quelle parti che non varrà neanche la pena procedere perché sono gli autori che sono stati autori minimi cioè che hanno prodotto pochissimo un giorno ci arriviamo anche a quelli per cui non si legano dall'altro se sono solo le mie quindi fino a che punto devo portarli no? la parte più difficile sarà quella che rimane quindi bisogna sempre scegliere di dove portare il proprio forse a che punto potrebbe diventare attenzione pensa però all'autore che c'è solo da te ma è padre di un autore che c'è anche in liquidata quello tu lo inserisci senza dubbio perché poi si lega il problema di capire fin dove posso arrivare fin dove devo arrivare perché non so non so tanto prima di arrivare a quel punto ci mettiamo qualche annetto qui sto mostrando qui sto mostrando di mettergli presto appena la data un identificatore se esiste altrove appena l'hai fatto ti sei tolto la maggior parte dei pensieri per l'uso futuro qui parliamo di pulizia dei dati non mostriamo una biblioteca in sala mostriamo la biblioteca della custodia della terra santa che comunque abbiamo portato noi qui vedete già non ci abbiamo lavorato molto in realtà ma vedete già 107 casi di persone rappresentate due o più volte direi in alcuni casi anche tre vedo Teresa di Lisio che mi pare sia tre e report di questo tipo ci sono anche per le vostre biblioteche e diciamo ci sono questo è un esempio è il principale diciamo esempio di caso in cui Wikidata mostra dei problemi nei rispettivi cataloghi che poi si possono correggere quindi appunto esempio di cui si parlava aiuta la pulizia del catalogo sì c'è lavoro all'Accademia Britannica sono allogatrice per il momento mi sto chiedendo proprio sono curiosa di sapere che cosa è stato fatto perché per capire bene qual è il meccanismo cioè voi avete estratto i nostri record di autorità e vi avete solo per le persone parliamo e vi avete aggiunto in qualche modo con un software un programma il numero di Wikidata se capisco bene quindi nei nostri record di autorità questo numero di Wikidata che sta nei nostri cataloghi non c'è in realtà quindi tutto il lavoro di aggiunta e di legame chi lo fa? cioè la cosa è questa prima prima domanda è questa seconda domanda un'altra serie di problemi legata al fatto che io utilizzo gli authority record della Library of Congress e lì carico automaticamente attraverso COA attraverso il sistema di autorità questo sistema mi dà la possibilità di avere un numero di COA che spesso adesso viene messo anche nei record biografici che lo stesso possiamo scaricare da remoto se io vado a modificare il record di autorità che ho preso dalla Library of Congress magari aggiungendo delle date oppure facendo tolgo il controllo di autorità che la Library of Congress gli dà non posso più mettere il link nel record con il numero dell'autorità perché in realtà io ho modificato il mio dato quindi anche questo è un altro elemento che mi incuriosisce cioè oltre a fare la catalogazione il controllo aggiungere forse il campo di numero di Wikidata togliere dal record l'eventuale link che il record mi dà più devo fare anche il controllo su Wikidata per mettere togliere correggere inserire è vero che mi piacerebbe tanto però non faccio solo questo quindi è un secondo elemento che mi da considerare l'entity management l'hai profilato benissimo e Janet vuole aggiungere sì grazie a tutti Grazie. Ecco, sì, ma giustamente tu nel 670, presumo, dici che la tua fonte è la Labro Congress. L'applicazione di modifiche che non hanno riscontro nella Labro Congress, per esempio, un 400 mancante, una data mancante, si fa pensare di togliere effettivamente questo. Ma questa entità che stai descrivendo resta la stessa che nella Labro Congress? Allora hai tutto il diritto di lasciare traccia di questo, ed è il punto chiave dell'Incad Data, nello 024. Se lì lasci scritto dollaro 2, Labro Congress, dollaro A, numero della Labro Congress, a quel punto hai unito e hai anche arricchito potenzialmente di informazioni che tu hai e la Labro Congress non ha, appunto il record della Labro Congress, potenzialmente. Se loro sono in grado di arrivare fin da te, scoprire la data che tu conoscevi e loro no. Quindi, il 670 è giusto probabilmente modificarlo, però lo 024 resta lui, perché 6 mesi, se è vero, ovviamente, deve essere vero. In questo senso, gli 024 sono impegnativi a mettere, perché io sto dichiarando una cosa seria, 6 mesi, no? Se questo è quello che io descrivo così, tu lo stai descrivendo altrove descritto diversamente, in un modo più giusto, più sbagliato, diversamente. L'importante è che la dichiarazione di 6 mesi sia giusta, sia più sbagliato. Aggiungo una cosa, ci sono due possibilità, diciamo, da un lato, ovviamente l'identificativo vostro dovrebbe essere dentro Wikidata, questo sicuro. Per quanto riguarda il lato vostro, ci sono due possibilità, cioè da un lato c'è la possibilità di inserire, o manualmente, o in modo invece semiautomatico, l'identificativo di Wikidata nei vostri record. L'altra possibilità è quella che ci mostra la Biblioteca Nazionale Ceca, di cui noi siamo grandi fan. La Biblioteca Nazionale Ceca, che lavora prima con Wikipedia e poi con Wikidata dal, penso, 2005, ad esempio usa un sistema diverso, e cioè questo link che voi vedete a Wikidata è un link che non si basa sul fatto che loro abbiano dentro il loro record, o perlomeno non sempre, l'identificativo di Wikidata. Si basa sul fatto che questo link va a fare una sorta di query, cosa strana, insomma, su Wikidata per vedere, guarda se c'è un elemento di Wikidata che contiene questo identificativo e nel caso restituisci l'elemento di Wikidata. E quindi questo link si crea, cioè questo link di base, quando io ci clicco, fa una query che vedete mi conduce velocissimamente dentro l'elemento, però appunto questo credo che sia anche il metodo, se non sbaglio, che usa nella Library of Congress, ma su questo potrei sbagliarmi. e quindi appunto c'è anche la possibilità, creando un sistema informatico apposito, di dire, mostrami l'elemento di Wikidata che contiene eventualmente il mio identificativo e questo non mi obbliga a portare quell'identificativo dentro il mio record. Cosa? Allora, dentro il record della nazionale cieca, vedete qua c'è Daesh Informace, che credo che sia ulteriori informazioni, con Wikipedia in cieco, Wikidata e ISNI, peraltro non linkano a VIAF. Vedete che appunto ci sono Wikipedia in cieco, Wikidata e ISNI. Lo possiamo studiare un pochino per capire come l'hanno fatto, interessante, ma la domanda che faceva lei prima, cioè come porto i numeri di Wikidata dentro il mio catalogo, che potrebbe essere l'istruzione appunto? Ci sta lavorando anche il nostro amico in Grecia. Almeno in forza. Sì, esatto. Li possiamo estrarre da Wikidata, quindi possiamo chiedere gli dammi, Facilissimo. I numeri di Wikidata, un numero che contengono l'identificatore della mia biblioteca, quindi ne esiste il set di documento. A quel punto ti occorre un software che aggiorni il tuo catalogo in modo tale che tu non debba farlo a mano, perché se solo supera il 100, ti voglio vedere, è certo che supera il 100 e diventa un'unità umana. Sì, no, tecnicamente ci deve essere un programma che faccia questo, un interfaccio. Esatto. Può essere un'interfaccia molto piccola, scusami, Barbara, se concludo, perché lui diceva giustamente abbiamo chiesto, e speriamo di ottenere presto, questo tool generico, recentemente generico, per COA, lo sta producendo una ditta greca, che ha tanti COA di Grecia e Cipro dipendenti da lei. Vediamo sin dove arrivano, perché l'idea di fondo è abbastanza semplice, si tratta appunto di portarli dentro il regolo d'autorità 024. Ripeto, tecnicamente si può fare, soprattutto perché COA è open source, quindi il vantaggio è quello, quello di poter manipolare in qualche modo, di creare dei programmi che poi vanno a scrivere, vanno a inserirsi sull'ILS. Sì, speriamo. Un'osservazione, forse un invito, prendendo l'ultimo punto di Camillo, che mettiamoci all'opera, serve della formazione. Sì. Allora, se volete, se voi volete, anche, possiamo fare un secondo incontro anche all'Istituto Olandese, che sta alla porta accanto. O in presenza, che mi piacerebbe molto, oppure in un modo, o forse, vediamo, stiamo lavorando adesso sui nostri sistemi tecnici all'interno, forse anche ibrido. così proprio per, diciamo, di non lasciare questa giornata un po' sospesa, ma di vedere una continuazione, anche perché, se non ci formiamo, non abbiamo esperienze, non troviamo che c'è più in comune. Ok, quindi era questo. Qui vedete la famosa lista, corrispondenza elemento con i D, dell'American Academy. Esattamente, cioè la prima riga, in 76, 4 per 9, corrisponde al tuo, regolo d'autorità, 1, 1, 1, 6, 6, perché sono stati numeri lunghi, ma non cambia, perché non importa, l'importante è che sia stabile, univoco, e quindi, se tu facessi clic sul primo, e clic, perché chi non serve, non è. No, no, questi sono quelli buoni. Questi sono quelli buoni. E questo è già avvenuto, o in parte, automaticamente, grazie alla qualità. Ah, no, dice inserendoli loro, dentro il loro catalogo. Esattamente. No, non penso che l'abbiate fatto. Ma tu ce l'hai già l'esperienza, un certo Eric, Liz Morgan, è venuto da te, ha fatto lo stesso lavoro, ma con, se lo ricordi Eric, ecco, ha fatto concettualmente, esattamente lo stesso lavoro, del gancio, dei vostri record, alla laborazione. E quindi, questa operazione qui, è analoga, però, con i studi di si data. Quindi, si aggiungerebbero degli, non mi ricordo se voi lì, se sentite, si mette nello 0,24, esattamente. Certo, anche in questo caso, ci deve essere un'interfaccia, esattamente, che mette dentro i dati, che scrive, che si nutre, sui, sui dati vostri. di questa tabellina, di questa tabellina, perché questi quanti sono, da lì, ecco, e si mangia questa tabella, e crea lo 0,24, aggiungendo i Q, nel rispettivo, nel record autorità. stiamo aspettando questo script, dalla Grecia, vediamo se arriva, o comunque, io ce n'ho uno, che ho fatto, un grezzo, ma sufficientemente buono, per me, che mi fosse, funzioni, bene, per chiunque, non me la sento, preferisco un tool, che la comunità di Coa, abbia, portato avanti, ufficialmente, diciamo, perché avrebbe, test, di molti, di molte installazioni di Coa, Giusto? Sì. Esattamente, questo aggiornamento, lo possiamo rifare, facendo, rifacendo il lavoro intero, che si sistemerebbero, e, ovviamente, non conviene andare avanti, diciamo, continuamente, a rifare, sezioni, quindi, a quel punto, entra il lavoro, ordinario, che puoi portare avanti, tu, con i tuoi colleghi, a riguardo, no? Esattamente. Più che altro, se vuoi mantenere, quella parallelismo, avrai introdotto, questa nuova logica di lavoro, nel tuo, nel tuo ambiente. È ovvio che non hai l'obbligo di farlo, è una scelta, di, diciamo, che però può essere strategica, per alcune biblioteche, come le nostre, si tratta di capire. Sì, sì, se si, non si butta, e se si può aggiornare. una mappa dei luoghi di nascita, degli autori dell'American Academy, che abbiano un luogo di nascita su Wikidata, ecco, la vedono anche online. Stefano, clicca da qualche parte. Sono i luoghi di nascita, appunto, degli autori dell'American Academy, sparsi per il mondo. Quindi, appunto, ah, vedi, si aprono, sì, si aprono, dove c'è più persone, sullo stesso punto, si aprono. e cliccando scoprite chi è nato, scoprite solo il Q, poi per capire chi è dovete entrarci dentro, ma si può anche mostrare il nome in modo più facile. Vediamo. Ecco, questo adesso, io posso anche mostrare il nome, adesso non l'ho fatto per velocità, ma se io ci entro dentro, scopro che è, ok, questo è Antun, ok, questo però non abbiamo l'etichetta in italiano, wow, comunque in inglese, che dovrebbe essere uguale al croato, è Antun Dalmatin, ci sarà anche un nome italiano, ok, Antonio Dalmatin, sì, ecco, vedete, quindi, esempio. Possibilità più pronte, a questo punto, per questo, ognuno dovrà pensare in un eventuale punto, molto, in un'etichetta. non vale la pena avere una soluzione comune, è carino. Sono profili della prova di biblioteca, no? Sì. Le occupazioni di prima, il luogo di nascita, eccetera, prossimo a di oggi, una volta, appassinavamo con la giù, per esempio, solo il materiale, le vie di un'esperanza, l'ambito di studio, no? Così profiliamo gli autori. E possiamo profiliare anche gruppi di biblioteca, per vedere le intersezioni, e così via, le intersezioni, anche ciò che manca nell'una, c'è nell'altra. Esattamente. direi che cosa c'è di più da noi rispetto ad altri. Esatto. E poi potremmo rinascurare il nostro civico. Esatto. Bene. Abbiamo fatto una tirata veramente notevole, no? Vi ringraziamo per essere intervenuti, essere qui, e insomma, speriamo che sia il primo passo per una collaborazione comune, Speriamo di rivedervi molto presto. Speriamo di rivedervi molto presto. Io vi vedo spesso. Grazie. Grazie.